Ehi, ciao! State per guardare l'ottava puntata della terza stagione del Breaking Italy Night con uno degli ospiti che più ho inseguito da che ho iniziato questo percorso, Roberto Saviano. Scrittore intellettuale, in prima linea nel giornalismo antimafia, politicamente molto divisivo e lo sarà anche in questo night, ve lo assicuro. Ma sarà interessantissimo, quindi preparatevi. Saviano è un pozzo senza fondo di informazioni, parla tantissimo, è affascinante ad ascoltare e per più o meno la prima metà dello show vi accorgerete di come fossi mesmerizzato dalle cose che aveva da dire. Ma poi, nella seconda metà, si è aperto un pochino e lo potete osservare in una veste che probabilmente, raramente, gli avrete visto cucita addosso. Le regole sono le solite, come con tutti gli ospiti. Le domande non sono preparate, non ci sono scambi organizzati, non abbiamo tagliato niente, quindi la vedrete esattamente come l'hanno vista e sentita le persone in teatro. Sono regole strane da avere per uno show prodotto e registrato, sono inusuali, ve lo assicuro. Gli ospiti potrebbero dire letteralmente qualsiasi cosa senza controllo. E quindi, al solito, ringrazio i due sponsor dello show, NordVPN e Tridon, che ci garantiscono totale libertà su qualsiasi cosa. Che vi assicuro, in un mondo di sponsor che cercano di esercitare controllo anche sulle singole parole che uno utilizza, sono una ventata d'aria fresca e fanno delle cose utili e belle. Tridon è, ad esempio, una realtà di un gruppo di persone che ha detto bello parlare di ambiente, di decarbonizzazione, di sviluppo di ardimenticate, di consumo di suolo, ma se invece facessimo qualcosa e permettessimo a tutti di fare qualcosa mentre sono semplicemente a casa loro, al computer, al telefono, e quindi quest'anno fatto hanno iniziato a piantare alberi in giro per il mondo per conto terzi, che significa che hanno realisticamente permesso a tanti di noi di fare una cosa bella, che potenzialmente ci sopravviverà e farà ben al pianeta per le decadi avvenire. E partecipare è ancora molto facile, basta andare sul loro sito, cercare l'albero che si preferisce, ce ne sono per tutte le tasche, decidere se un regalo al pianeta è a voi stessi o a qualcun altro o a qualcun'altra, e poi ricevere nel tempo notifiche e informazioni su dove quell'albero si trovi esattamente, perché viene già localizzato, e cosa accade in quel territorio, anche a distanza di anni, è molto molto bello. E non è mai troppo tardi per cominciare o fare un nuovo regalo, perché no? Quindi, link in descrizione, vi lascio anche il link alla foresta di Breaking Italy, che è gigantesca, ci sono tantissimi di noi dentro, ci troverete anche i miei alberi, con il nome che ho deciso di dare i miei alberi, è una bella community che continua a crescere, e ogni singola icona è un albero, sono degli alberi veri, che un giorno, lo prometto sempre, andrò a toccare, anche se non lo sarò invitato, andrò e li toccherò con le mie mani. Però per adesso vi invito a piantarne più possibile andando al link in descrizione. Per il resto, era tutto, vi lascio al night con Roberto Saviano, mettetevi comodi, preparatevi, presentatevi molto da bere, perché c'è tanto da ascoltare, tanto da incamerare, tanto su cui riflettere successivamente. Sarà interessantissimo, ve lo prometto. Ed ora per Breaking Italy Night, Alessandro Masala! Buonasera! Buonasera a tutte, e buonasera a tutti! Grazie, grazie mille, grazie mille! Grazie a tutte, grazie a tutti! Lo apprezzo moltissimo! Grazie! Ehi, va bene! Va bene! Me ne rivado! Ricordo! Come andiamo? Puntatona, eh? Puntatona! Allora, oggi prima di iniziare vi devo dire che è una puntata particolare, lo sapete, per ragioni di sicurezza, io sono armato. Sotto le vostre sedie troverete delle pistole che sono state disseminate in modo da essere sicuri. Nel senso, questo ci riporta anche al vecchio detto americano, che il good guy con l'arma colpisce il bad guy con l'arma, quindi guardatevi attorno, cercate di individuare chi è il good guy e chi è il bad guy, e poi, insomma, gestitevela voi. Questo perché io sarò molto impegnato a coronare, tipo il sogno della mia vita, che è parlare con Roberto Saviano. Per chi non sapesse, appunto, e sia venuto qui a caso e sia entrato solo per me, c'è Roberto Saviano. Cercherò di affrontare tutte le tematiche possibili, quindi oggi in tempi televisioni faccio la domanda, mentre sta rispondendo gli hai fatto subito un'altra, perché ne ho tante da fargli. No, in realtà, io seguo Saviano da tantissimi anni, lo ammiro, come immagino, a tanti di voi. Ci sono un miliardo di cose che mi sono sempre chiesto del suo lavoro, della sua vita, perché... Cioè, ci sono un sacco di elementi che mi vengono alla mente, che cercherò, appunto, di riassumere in queste due ore, cercando di farle risultare più interessanti, possibilmente anche divertenti possibili. Il mirto c'è, non garantisco niente. Quindi vi chiedo un applauso per Roberto Saviano. C'è te. Grazie. Ah! Bello, bello assai. Bello? Bello. Prima volta in un teatro? Ci stavo credendo. Chissà che il carcano poi è uno spazio che mi piace molto. Ci vengo spesso. È uno dei pochi spazi che non ha paura di me. Anche tu non hai paura di me. O sì, un po' sì. Un pochino. Noi abbiamo una tradizione. Questo è Mirto. Io al momento inizio con un brindisi, però lascio a te la scelta. No, io sono, diciamo, generalmente astemio, ma ogni tanto faccio delle eccezioni. Quindi... Questa è un'eccezione grande. Le Heim. Questo è il mio brindisi. Allora, Roby, ci sono Roby, ovviamente. Ci sono un sacco di ambiti che io vorrei toccare. Però la prima domanda che ti devo assolutamente fare è... Fazio. Com'è la situazione? Molto difficile, diciamo, descriverla, nel senso che... E' andato via o è stato mandato via? C'è un modo in cui tu decidi di andare via perché sai che non sei più gradito. Ed è stata la dinamica, probabilmente, che lui ha deciso di percorrere. Non ti rinnovano il contratto, ci si mette molto tempo. Devo dire che ho condiviso anche l'eleganza in cui è uscito. Ci sono state polemiche. Perché i buyer non usano un'altra piattaforma, un altro canale. E questa è una delle strategie più pericolose. Cioè, sostanzialmente, cosa succede? Che... Vieni messo nelle condizioni di andare via. E questo accade con una dinamica molto subdola. E me ne sono accorto con i commenti che hanno fatto sul post che ho fatto su Fabio. Ma è che c'è il vitalizio nella RAI. Perché sempre tu? Solo tu nella RAI? Tutte cose false. A parte che nella RAI c'è di tutto. E poi quando hai un progetto, è quel progetto che vive. È quel progetto che dà qualità. È quel progetto che ha risultati. Ma quando diventa quota, lì è il trucco. Cioè, dici, ah, ma tu non sei un progetto. Tu sei un'ideologia. Un gruppo. Un gruppo di potere. Un interesse. È lì il trucco. Io, nel momento in cui faccio una critica, non appartengo a un partito. Il PD, per esempio, non mi ha mai dato nulla. Trasmissioni, CAT, zero. Non è che tu dici, quindi gli devo qualcosa, per esempio. Niente. Eppure, quando esprimo una critica, sei in quota, parli per conto, i poteri forti. Questa è tutta una strategia per toglierti voce e per delegittimare argomenti che loro non riescono a smontare. E così succede con una trasmissione uola di Fabio. È vero, però non pensi, cioè, non credi di essere, se tale ti ritieni, un pesce raro in questo senso. Perché io ho invece l'impressione, molto spesso, che quando guardo la televisione, soprattutto una cosa che io dico spesso, è che in Italia ci sono i giornalisti che vanno in tv e quelli che non vanno in tv. E sono due razze distinte, in un certo senso, anche a livello di notorietà. Che parlino quasi come se fossero esponenti di partito. Cioè, ho proprio questa impressione. Che vadano in televisione e non esprimano delle posizioni proprie, ma siano lì a difendere questo o quel politico. E quindi le persone magari si abituano a questo tipo di meccanica. Vero. Questa è la dinamica che succede. E sono poi spesso esponenti di giornali legati a gruppi di potere schierati. e quindi devono esprimere sostanzialmente la posizione dell'editore in alcuni casi. E qua si apre l'altro tema. Sì, però anche tu, cioè io scrivi su giornali che fanno parte di universi imprenditoriali. Nulla può, diciamo, generarsi gratis. C'è sempre un finanziatore, c'è sempre un'impresa. Bene, qui c'è lo scarto della libera critica e della democrazia. Cioè, indipendentemente da chi ti sta dando i soldi, devi riuscire a essere libero. E questa cosa come la puoi ottenere? La puoi ottenere se accetti di lavorare per chi non ti vuole condizionare. E perché non ti vuole condizionare? Perché sa che ha un ritorno maggiore ad averti libero. Questo succedeva molto in passato, molto meno oggi. Faccio un esempio. Nel momento in cui tu avevi giornali, faccio un esempio, l'Europeo. C'è stato l'Europeo negli anni 70, 80. Grandissimi reportage, per esempio, dai fronti di guerra. Se l'editore dietro all'Europeo condizionava la Fallaci, per intenderci, stava facendo un danno a se stesso. Perché i lettori volevano la Fallaci libera. Volevano la Fallaci capace anche di provocare. Capace di infastidirli persino. E quindi l'editore andava contro di sé, bloccandola. Andava contro di sé, condizionandola. Ok. E questo è il punto. Molto, molto difficile da comunicare, perché è molto semplice dire, ma chi ti paga? Ah, allora stai lavorando per De Benedetti, stai lavorando per Cario, stai lavorando per... È diverso. In che condizioni sono? Che orientamento ha il giornale? Che orizzonte ha? Come si sta comportando? Quando, quanto sta facendo il paraculo? In un paese dove la maggior parte della stampa, la totalità, è finanziata dal governo. I finanziamenti pubblici. Se tu togli i finanziamenti pubblici, quasi tutti i giornali ce l'hanno, adesso tutti, diciamo dopo il Covid, muoiono. Quindi devono dare sempre carezze e schiaffo. Alcuni, due carezze la maggior parte, alcuni una carezza e fingono poi di criticarlo un po'. Ora sono stati un po' redimensionati comunque i finanziamenti... Ma comunque senza non vivi, perché non devi pensare che c'è solo l'obolo dello Stato. Poi ci sono le aziende dello Stato che comprono la pubblicità. Certo, è vero. Se tu blocchi tutte le grandi ferrovie, che comprano pubblicità lì, è ancora meno. Se tu inizi come governo a dire, a far capire che se le aziende comprano la pubblicità su quel giornale, tu quel settore inizi a essere freddo. Quelli non comprano più. È così che funziona. È il motivo per cui vanno verso un giornale le aziende, non perché il capo del governo chiama e dice comprate la pubblicità lì, perché dicono, ah, quel giornale è vicino al governo, se noi compriamo la pubblicità mentre è vicino al governo, è un'interlocuzione col governo. Cioè, ah, ok, quindi tu dici è un modo per... Ah, per avvicinarsi in qualche modo. In passato perché era più difficile? Perché avevi tanti lettori, cosa che oggi non ci sono. Quindi cosa succede? Hai un milione di lettori. Mettiamo che arriva la telefonata del ministro, che chiama il giornale e dice, però, quel pezzo... Al massimo il lettore poteva dire, posso fare un pezzo a favore, ma non posso togliere il pezzo contro. E perché lo diceva? Perché il pubblico, il pubblico si accorgeva e andava via. E tu eri spezzato. Quindi l'editore dice, no, dovete essere liberi. E addirittura c'era Agnelli, no, che mi ricordo uno dei miei maestri del giornalismo, Ezio Mauro. Io sono entrato in Repubblica all'epoca, adesso sono al Corriere, ma ero piccolo. Avevo 26 anni. Ezio Mauro, Gregorio Botto, quella scuola lì, inizia a darmi gli strumenti. Tra l'altro io finisco subito in prima pagina. Ebbene, lui mi riporta una frase, un aneddoto di Agnelli, che diceva, Agnelli spesso aveva queste uscite da supermaciste, no? E qui diceva, i giornali sono come le donne, non vanno toccati neanche con un fiore e decidono tutto l'oro. Che era un'espressione un po' furbesca, per dire, se io vado contro la linea di un giornale, sono sicuro che sto facendo bene al giornale. Sembrerà un mio ufficio stampa, e quindi lentamente diventerà un giornalaccio. Devo essere attento a far passare cose che mi servono, ma deve essere autorevole. E l'autorevolezza la dà solo la libertà. E tu dici che questa cosa adesso si sta perdendo anche in Rai, nel senso che... In Rai... Dici che è già un disastro. Ma il disastro l'hanno fatto i governi addirittura precedenti, distruggendo l'autonomia delle reti. Ma è stato un disastro. Beh, ma non c'è mai stata in realtà l'autonomia delle reti in Rai, credo. In certa misura, per esempio, io ho vissuto... Ho un'esperienza piccola rispetto a quella di Fabio, ma io ho vissuto quando c'è la Ruffini a Rai 3, per dire, come vieni via con me... Beh, fu un'argine. Fu un'argine rispetto alla chiusura dei programmi che pretendeva Berlusconi. Qualsiasi governo, una qualsiasi forza politica, prima di andare al governo, dice libererò la Rai dalla lottizzazione. Sì. Andranno i programmi che funzionano, si sperimenterà. Non andrà chi è lì solo per questioni, diciamo, di quota politica. Poi non lo fa nessuno. Non lo fa nessuno perché poi è una macchina dove chi conta non cambia mai. Quello che gestisce i contratti, il stato del personale, quelli che sono trasversali. A tutti i governi sono loro che tengono in mano la macchina. Se loro la sabotano, tu non vai da nessuna parte. Quindi è tutto un meccanismo strano tra ricatto, un'impossibilità di riforma, un'impossibilità di cambiamento e la gola di tutti i governi. Cioè a un certo punto tu vedi che è talmente faticoso trasformare la Rai che preferisci prenderla e orientarla verso di te. Certo. Anche se d'altra parte si potrebbe dire perfetto, viene cambiato il direttore generale e quindi questo direttore imprime una visione politica differente, una sua visione differente. Ecco, il problema, nelle parole che hai speso, una sua visione è differente da una visione politica. In realtà vengono chiamati e raramente in una visione. devono essere portavoci di una visione. E questo è terribile. Terribile. Enzo Siciliano, che ho avuto la fortuna poi di conoscere, un intellettuale molto raffinato, di origine calabrese, romano, fondatore di nuovi argomenti, insomma, direttore di nuovi argomenti. Ecco, Enzo Siciliano divenne presidente della Rai e il primo atto che fece è mettere l'opera lirica in prima serata. L'opera lirica? Lirica, ok. Ti ho detto, Verdi alle 8. Che è una scelta? No. No. Ti c'ha. Un risultato, disastro, chiaramente. Ma, cos'è che in realtà stava cercando di dimostrare? Io devo abituare il pubblico. Lo devo abituare. Il pubblico non ha mai visto l'opera lirica in prima serata. A parte i melomani che lo vedevano di notte. Qualcuno ha detto Wow, bellissimo. Qualcun'altro ha detto Bello, ma che palo, è tutto troppo lungo. Altri hanno iniziato a dire Ma che cosa strana. Ma erano tutti pronti ad aspettare un secondo passo. Qual è stato il problema? La pubblicità. La pubblicità ti dice E però abbiamo perso. Abbiamo perso un sacco di share. Se lì mettevamo una cosa di intrattenimento la pubblicità funzionava di più. Quindi arrivavano più soldi. Invece tu fai uno share basso la volta successiva la pubblicità dice Non mi mettete dopo l'opera lirica che nessuno mi compra i prodotti. E quindi quello spazio vale meno. Questo è il punto. Per costruire c'è bisogno di tempo. Ma l'idea di TV di Stato serviva a questo come Enzo Siciliano all'epoca disse. Serviva proprio a questo. Io non posso vendere soltanto le scarpe, il caffè e le magliettine. Cioè io devo avere il tempo per formare. E un'operazione del genere è un'operazione incredibile. Ma comunque così anche all'estero. Anzi una cosa paradossale è che la televisione italiana tutt'oggi è abbastanza terribile. Ha più cultura della televisione tedesca o scandinava. Non c'hanno libri. Molto meno spazi libri. Sì c'è la gran libreria in Francia ma lo spazio che viene dato al libro e alla cultura è su canali tematici. Non è la TV generalista. Quindi stranamente a noi che sembrano diciamo chi sa all'estero come sarà in realtà all'estero ha o i canali tematici come dice gli story channel oppure la TV giornalista non ha proprio non sfiora proprio la parola cultura è mettere le mani alla pistola no come dice il Gerarca. Che però questo non è neanche il caso perché insomma tornando un attimo sulla questione di Fazio noi abbiamo noi chiunque si è accorto che era una trasmissione che in realtà guadagnava bene veniva vista molto. E infatti questa posizione che è palesemente una posizione politica quella di insomma allontanare Fazio questo mi sembra abbastanza evidente un po' mi lascia perplesso perché quando diciamo questa trasmissione aveva molto share significa che milioni di italiani la guardavano due milioni e mezzo di italiani la guardavano e quindi il fatto che venga sbandierato come un trofeo anche Salvini Bye Bye cosa è che ha scritto Bella Ciao Belli Ciao Belli Ciao molto molto signorile sembra quasi buttarla in faccia a moltissimi italiani che quella roba lì la prediligevano non so neanche se tutti di area politica no certo il Belli Ciao di Salvini il Belli Ciao di Salvini serve a lui alla sua bolla a lui perché lui parla alla sua bolla esclusivamente alla sua bolla tutto è sempre soltanto rivolto ad a nutrire la bestia cioè a nutrire diciamo quella comunità che vuole questo in più è una vittoria semplice cioè vi ho promesso che non l'ha fatto magari neanche lui questa operazione non è stata non parte la burocrazia della Rai Fortes che non ha avuto il coraggio di firmare non so cosa gli hanno promesso in cambio diciamo di questa immobilità però diciamo ci sono tante ragioni quindi in maniera assolutamente veloce e istantanea con quel tweet con quel post sta dicendo avete visto ho mantenuto una promessa cosa che insomma è molto rara per lui riuscire a sottolineare ce l'ho fatta e quindi il gioco è stato molto di più che una scorrettezza o di un cattivo gusto no no quello è un piano politico preciso mettere il cappello su quest'operazione l'abbiamo gacciato e in un luogo dove tra l'altro lui è andato se non sbaglio si è andato mi ricordo lui che parla con Fazio lui che tira fuori una maglietta c'era il periodo delle magliette di Salvini è stata una fase diciamo come gli adolescenti che erano le fasi fissato ma c'è una ragione per cui diciamo Salvini è fissato con le magliette a un certo punto lui cerca continuamente di essere il più breve possibile il più breve possibile instantaneo immediato con una maglietta non hai neanche bisogno di parlare cioè ti metti una maglietta accendi stai già dando il messaggio Italia Lega e questa cosa lo fa sentire immediatamente centrato nella comunicazione e Fabio infatti non è per lui un nemico all'inizio è uno spazio e il fatto che Fabio possa avere delle idee possa ospitare o predilige determinati tipi di intellettuali o interlocutori è percepito come una dialettica tipica di una trasmissione una trasmissione che si mette nell'aria progressista genericamente cattolica per anni aveva avuto una profonda vocazione antimafia ma io andavo spesso avevamo fatto vieni via con me attaccato da Berlusconi e attaccato davvero da Maui Masi cercano di fermarci in tutti i modi bene a un certo punto cosa fa scattare l'odio è semplice mancano i bersagli a sinistra che possono compattare il loro pubblico non parlo neanche di elettori il loro pubblico mancano chi prende chi attacchi i leader del PD che tipo di politici senza identità diciamo un po' stinti e allora devi andare su personaggi intellettuali quindi ti serve il nemico e qual è il nemico in quel momento le trasmissioni che sono non loro alleate nell'odio agli immigrati che non invitano diciamo il personaggio a litigare come nei talk quindi non possono attaccarli perché ci mandano i loro e allora quelli sono salvi devono attaccare quei luoghi dove in qualche modo c'è una riflessione che prima loro andava bene anche quella riflessione magari cercavano di andarci andavano a presentare i libri poi funziona male perché al pubblico devono dare dei bersagli sono in cerca di bersagli io vengo scelto prescelto esattamente per questa ragione ad un certo punto la rabbia il fastidio chi sono i responsabili delle cose che funzionano male chi è che vuole i neri alla stazione chi è che vuole tutti fumino le canne chi è che vuole la fine della famiglia e devi prendere quelli che da sempre tra l'altro così accade in tutti sto dicendo regimi no ma c'è tempo succede sempre così regimi populisti conservatori fascisti e regimi comunisti venezuela diverso viene preso l'intellettuale che inizia a ragionare che mette molta paura per un motivo primo il motivo primo per cui l'intellettuale mette paura è proprio perché non è un politico e poi non vuole vincere ma cito sempre pannellone ma vuole convincere quindi nel momento in cui non è che io devo prendere un seggio devo diventare sindaco al massimo se ti convinco appunto quello che posso venderti è una mia opera un mio film un mio podcast cioè questa cosa rende il potere politico impotente perché il tuo lavoro è un lavoro costante che va immediatamente a innescare riflessione è come la fermi la fermi se ti attacco perché se invece arrivo sul tema delle idee io ti sto immediatamente elevando interlocutore e questo lo capisci bene quando vedi i principi di propaganda di Goebbels che dice mai parlare mai parlare di quello che sta dicendo il tuo avversario sempre parlare di chi è il tuo avversario perché se parli di ciò che sta dicendo potrebbe vincere convincere certo invece se parli di quello che è l'attico a manata ma per esempio certo anche io c'è io vedevo a Brukley ma l'attico a manata scrittore miliardario sì tutte cazzate che io ho sottostimato all'inizio credevo che fossero tra le tante cose che mi dicono le più fesse persino quelli ardiche certo ma qualcosa cambia poi invece innanzitutto la cosa che mi stupisce tipo un giorno una telefonata di mio fratello che mi dice vabbè ma è l'attico a manata ok cioè tu non sapevi ancora niente di questa storia no ma mio fratello poi insomma gli voglio bene ci sentiamo spesso ma per un attimo e io ho detto ricca ma che cazzo dice e lui mi fa e lui mi dice subito si riprende dice no e per un attimo perché me l'ha detto uno mi ha convinto ok guarda che sta roba è incredibile no si e scrittore miardare tutta questa roba qua cosa suggerisce suggerisce soprattutto alla loro bolla temendo che i miei argomenti potessero rompere che poi il mio obiettivo rompere insomma la loro universo la loro narrazione e entrare a interloquire con loro e quindi dice ah effettivamente questo sta parlando questi stanno annegando ma i numeri non dicono allora magari qualcuno di loro riconoscendomi anche uso questa espressione una patente riguardo alla legalità all'antimafia che è la cosa che loro temono temendo questo dicendo i miei lo ascoltano non lo considerano diciamo un nemico e allora magari possono credergli quando parla anche di immigrazione e allora lì gli dici occhio lo fa per i soldi ma infatti è lì che volevo arrivare perché una cosa che a me ha sempre affascinato è che tu vieni attaccato appunto da una parte politica molto precisa ma sei principalmente noto per delle battaglie che non sono politiche ma che dovrebbero unire tutti quanti io penso che molte persone che sono interessate all'antimafia che sono interessate a quelle storie possano tranquillamente essere di destra possano tranquillamente essere elettori della lega potenzialmente certo sarebbe folle pensare che non sia così certo questo cioè come si coniuga e poi tu hai visto un cambiamento diciamo nel tuo pubblico o ci sono ancora persone che dicono vabbè tu c'hai l'attica monatta ne sei straricco però sull'antimafia ti seguo ancora cioè non mi piace quello che dici sui migranti sulle ONG però sull'antimafia sì c'è questo scarto c'è assolutamente sì in realtà non nell'antimafia ma nel racconto crime cioè mi piace ascoltarti mi scrivono molti così mi piace ascoltarti quando mi parli di Messina del Haro tant'è vero che mi scrivo ma perché non continui a parlare invece di parlare ah sai quel problema lì ok Cosimo Di Lauro grande ma addirittura i commenti sono questo è uno stronzo riferendosi a me però quando parla di e la dinamica è quella cioè a un certo punto cosa succede che il tema antimafia è trasversale esiste un modo di interpretare il mondo da parte mia che è frutto anche dei miei studi sul potere criminale chiaramente e io quando avevo 16 anni e inizio a interessarmi anche perché lo subisco lo subisco nella mia terra ammazzano Don Peppe ammazzano un sindacalista Federico del Prete intorno a me vivo proprio in guerra letteralmente stiamo parlando di centinaia 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 di morti l'anno ti ricordo che è stato il territorio nel sud Italia con più morti ammazzati di tutta Europa e le prime pagine in realtà in Europa si riempivano di IRA Tranda del Nord ETA pesi baschi RAF Germania poi BR Action Direct ma che hanno fatto morti insomma il 3% il 4% rispetto ai morti delle mafie e l'omertà è stata difficilissima romperla io inizio a occuparmi di queste cose che non c'è ancora il reato di associazione dranghetista o camorrista c'era solo quello mafioso siciliano ed era l'altro ieri su per dire una battaglia lunga si sta dimenticando tutto però quando io avevo 16 anni uno dei miei riferimenti giornalistici del luogo era un giornalista del movimento sociale italiano Enzo Palmesano era un giornalista del movimento sociale che all'interno del suo partito aveva tantissimi banditi che stavano con i criminali ma anche tantissime persone eroiche che resistettero e sono state tutte tagliate fuori tra l'altro Enzo Palmesano poi viene licenziato da un giornale il Corriere di Caserta su richiesta di un boss di Vincenzo Lubrano se ne è parlato pochissimo quando non abbiamo parlato c'è stato un grande sforzo per far uscire questa notizia bene quello che voglio dire è che quindi la questione antimafiosa è importante e risulta trasversale ma è una trasversalità che pretende rispetto democratico conoscenza delle libertà d'inchiesta rispetto della dialettica politica cioè il mondo che ho incontrato nelle battaglie antimafia autentiche tante sono farlocche si riconosce comunque nella dinamica democratica è quella la grande differenza per cui tu puoi essere diciamo di qualsiasi posizione politica puoi dichiararti anche antimafioso ma poi nella pratica io so cioè chi osserva sa riconoscere quello l'apporto che tu stai dando in nome dei principi antimafiosi che sono principi democratici liberali di apertura che illumina la cosa pubblica che investe sul rinnovamento che non è diciamo a favore di una repressione manettara e basta ma al contrario della crescita sociale l'esempio più scontato che ti posso fare è Borsellino che è stato un movimento sociale destra nazionale e Falcone che aveva una tradizione repubblicana di destra comunque Falcone non di destra Borsellino di destra Borsellino assolutamente e loro Caponnetto che aveva una formazione socialdemocratica cattolica e si sono ritrovati in una visione di mondo comune perché indipendentemente dalle tue idee le premesse democratiche esatto quelle fanno la differenza chiaro cioè non è che noi arrestando tutti o mettendo polizia ad ogni angolo stiamo cambiando il mondo non lo hanno mai pensato neanche cambiando le regole economiche portando investimenti dando il lavoro e dignità permettendo la crescita culturale per esempio queste sono visioni che tu potevi orientare in forma diciamo conservatrice in forma progressista però sempre nella cornice democratica tanto è vero che questa cosa una volta falla quando non prendi sonno la notte se metti il mio nome e metti candidato politico io negli anni adesso far ridere dirlo ho avuto proposte da Lega per candidarmi all'Europe lo giuro ti hanno chiesto? giuro l'estrema destra l'estrema sinistra tutti tutti venivano perché negli anni in cui c'erano le mattanze in Campania l'urgenza di prendere posizione era veniva da tutti i partiti poi era un'urgenza apparente era spesso un'urgenza di pura propaganda certo ma c'era un candidato simbolo c'era e poi qualcosa cambia qualcosa cambia e cioè fare antimafia è difficile difficilissimo diventa molto più facile creare il pericolo dell'immigrato un pericolo facile che tutti possono vedere e che tutti possono malinterpretare e quindi a un certo punto non sono più le mafie il tema non è più l'economia criminale non è più il lavoro nero che non lo ha infatti non è più lo sfruttamento dei campi smette di essere non sentirei mai il pericolo delle organizzazioni criminali vedi per esempio i loro post non c'è mai un omicidio di mafia no c'è sì c'è la celebrazione dell'arresto di messina a denaro quando pescano qualche vaso c'è sempre l'aspetto repressivo che deve essere celebrato no e qua c'è una ragione perché non è non la narrazione mafia come pericolo pretende poi un'azione capillare anche di competenza che non hanno che non hanno e quindi è molto più facile andare su un problema che epidermicamente è più visibile è più visibile e che quindi puoi usare ideologicamente e da forza marginale in agonia diventano la prima forza del paese ma tu quindi quando Giorgia Meloni dice di aver iniziato il suo percorso politico spinta dagli eventi dalla morte di fare il cone borsellino le credi? non le credo neanche un po' non le credi? non le credo neanche un po' probabilmente è propaganda ma dopo di che non mi interessa nel senso che posso sindacare chiaramente sulle scelte personali nulla in Fratelli d'Italia nulla ha agito a un orizzonte in continuità con quello che è stata l'esperienza che fu l'antimaf di Palermo nel controllo sui funzionari politici al sud soprattutto né un programma antimafioso concreto sugli appalti sugli investimenti sulla gestione dei movimenti finanziari nulla 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 se queste persone pensano di fregare così facilmente gli elettori pensando che essere contro la mafia significhi dire mafia merda oppure usare l'espressione antimafia veramente hanno preso i cittadini per ingenui ricordo che quando Cuffaro che è stato in carcere come sai per aver avuto un ruolo diciamo di per aver avvantaggiato cosa nostra lui tappezzò Palermo con sovrascritto la mafia la montagna di merda le organizzazioni criminali campane hanno sostanzialmente quasi tutte le più grandi costruite associazioni antiracket costruite associazioni antiracket ok la fazione corleonese di cosa nostra premia poi non ci andrà il capitano ultimo con un premio antimafia i corleonesi stessi cioè le organizzazioni criminali stesse si baloccano della retorica antimafiosa quindi non è che un partito antimafia o un politico antimafia perché si dichiara antimafia pure i mafiosi dichiarano antimafia chiaramente la mafia che impediva l'espressione stessa pronunciata non c'è più cioè un tempo in un teatro come questo parlare di cosa nostra negli anni fino anni 80 poteva essere veramente pericoloso poteva essere pericoloso perché l'organizzazione all'epoca con i vertici appunto i corleonesi tutt'altro che stupidi tutt'altro che soltanto sanguinari l'azione percettarsi geniale incredibilmente efficiente e terribile bene per quel mondo lì punirti se pronunciavi soltanto il nome significava essere molto forti al suo interno cioè Costanzo ma il suo Costanzo ebbe l'attentato l'attentato perché bruciò una maglietta stupidissima insomma ha scritto cosa nostra e fece anche una battuta su Rina possa venirti un cancro una battuta così perché mi mandi un segnale questa persona mi manca di rispetto ok ma nessun cittadino guardando una cosa del genere va da Rina a dire credevo che tu fossi una persona diversa da come mi ha raccontato Costanzo no c'è 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 Costanzo facendo questo sai dove lo sta indebolendo dentro l'organizzazione chi gli è nemico o gli è quasi amico ascolta e pensa si sta indebolendo è il momento di sostituirlo questo è quello che lui crede certo e allora interviene tutte questa è una cosa difficile da raccontare che ci sta ascoltando probabilmente tra i più giovani soprattutto conosce le stragi che sono state fatte in tutta Italia da Cosa Nostra le conosce perché vengono commemorate raccontate le sofferenze descritte descritti i patimenti ma in verità tutti quegli attentati parlavano all'interno dell'organizzazione mica volevano dire faccio metto una bomba a Milano faccio saltare la porta di una chiesa ammazzo due magistrati con delle autobombe per avere consenso alla gente credimi che il racconto spesso è così voleva terrorizzare il paese volevano mandare un messaggio di onnipotenza tutto interno ai codici politici interno alle fazioni dell'organizzazione interno alla comunicazione cioè il partito che ci sta appoggiando sa che noi siamo disposti a far saltare tutto una volta che è venuto meno all'aiuto richiesto sostanzialmente il maxiprocesso l'ADC non ci ha permesso di fermare quel processo non ci ha dato gli strumenti e quindi noi comunichiamo questo è importante è importante perché la domanda che si pone una persona è scusate ma pensavate di far saltare un'autostrada uccidendo persone e questo non avrebbe generato indignazione non avrebbe generato repressione non avrebbe generato ergastoli siete allora dei coglioni e non è così è molto più complesso lo sapevano esattamente che avrebbero generato ergastoli lo sapevano esattamente ma facendolo cosa sto salvando i miei soldi la mia leadership sto rinegoziando i parametri e questo è conta bene quella mafia oggi non c'è più cioè c'è stata un'evoluzione comunicativa quindi se tu qui maledici l'attuale capo di Cosa Nostra niente niente infatti io penso che la questione sia un po' lì perché ritornando tipo a Giorgia Meloni che dice magari Falcone Borsellino è iniziato lì lei a un certo punto ma adesso sto parlando di lei perché è la presidente del consiglio ma potrebbe essere chiunque prende il potere a livello nazionale ma attualmente so che non è così ho letto i tuoi libri capisco che non sia così però il problema è stato regionalizzato e io ho quasi l'impressione che in questo momento sia molto più facile quasi prendere il potere a livello nazionale che occuparti delle questioni regionali cioè a me fa molta più paura perché mi sembra quasi che siano difficili da governare e difficili da sradicare cioè io avevo letto una tua intervista se non sbaglio ora non ricordo in cui parlavi dei tuoi idoli giovanili a parte Maradona che vabbè Maradona ok a me è stato spiegato dieci minuti fa ho scoperto oggi Maradona però parlavi ad esempio di molte persone attive sul tuo territorio l'hai detto anche tu prima a 16 anni ho iniziato a vedere questa guerra e quindi parlavi di persone proprio attive sul territorio che contrastavano e io io le ammiro e da una parte cioè ammiro le persone che tuttora sui territori si battono eccetera da una parte però vivo il loro sforzo e parlo appunto di tutte queste associazioni religiose non quelle che prescano i ragazzi dalla strada tutte quelle robe lì le vivo quasi con cinismo nel senso che mi sembra che non cambino nulla e d'altra parte come se non fossero abbastanza qualcosa a cui ambire se tu ambisci al potere cioè se tu sei vuoi diventare il presidente del consiglio se Salvini vuoi diventare il presidente del consiglio è un tuo interesse il regionalizzare il problema e direi no vabbè ma sta là il problema è mafioso il problema è mafioso ad esempio il problema è mafioso sta là non tu non vivi questa frustrazione nel vedere sia questo disinteresse diciamo immagino che tu lo viva sia il fatto che a me sembra sembrano questioni difficili da sradicare ti faccio un esempio tu citi spesso De Luca De Luca è un potere regionale che a me sembra più forte della Meloni cioè se io dovessi sfidare qualcuno politicamente sfiderei Giorgia Meloni e non De Luca perché le questioni regionali più speranza di vincere contro Giorgia Meloni che contro De Luca non c'è neanche partita non c'è partita vero? certo è il padrone è questa questa roba a parte che immagino tu l'aveva come frustrante cioè non è parte del problema sì più ampio diciamo da dove partire? domanda complicatissima perché i poteri locali sono i poteri reali nel senso che qualunque sia la direttiva nazionale e addirittura europea quindi internazionale poi viene realizzata o ostacolata dall'amministrazione locale certo entro certi limiti nel senso che l'amministrazione poi ha l'obbligo di dover realizzare una mettere in condizione una legge a realizzarsi o subire una direttiva ma quello che tu dici è molto vero nel senso che i poteri regionali i poteri locali poi gestiscono i soldi direttamente capaci di condizionare la vita di un territorio e quindi cosa succede? che è se l'amministratore locale è stato abile che poi ti porta il consenso al potere nazionale e se l'amministratore locale è stato particolarmente furbo o capace ci sono i due in due volte la medaglia che poi fa cassa la sua parte politica nazionale per intenderci gran parte del successo del partito comunista in Italia negli anni 60 70 80 mentre l'est Europa dall'est Europa arrivavano le informazioni più autroci su Albania Ungheria Polonia Repubblica Ceca ma quello che però risultava veramente importante ti portava a votare PC era come amministravano le Mila Romagna l'Umbria come amministravano le città il welfare che riuscivano a proteggere quindi l'amministratore locale era molto più forte persino delle informazioni ideologiche drammatiche che arrivavano da Oltrecortina una certa efficienza amministrativa che la Lega ha avuto è stato per anni la Lega antifascista c'è stata una Lega antifascista la Lega di Bossi era una Lega antifascista aveva già dentro tutti gli stilemi del razzismo antimeridionalista però quella Lega lì la sua vera propaganda era la buona amministrazione con buona si intende efficiente sì quindi cosa succede che anche il potere di De Luca nasce perché arriva come un satrapo letteralmente come un satrapo a piazzare la sua famiglia i suoi uomini i suoi giri lui si fa garante ma in nome di cosa? del fatto che Salerno l'amministra da bene del fatto che la burocrazia italiana è lenta marcescente esposta alla corruzione e lui cosa fa? quando qualcosa non funziona ne parla direttamente è raro vedere una cosa del genere se ti bloccano dei fondi nel Lazio c'è mezza intervista ci sono le parole di qualche assessore De Luca è lì a presentare al popolo quando fa le sue dirette e ti dice e ti dice mi impediscono di ci hanno bloccato ok immediatamente la comunità che lo ascolta non gli dà più la responsabilità di una mancanza ok non gli dà perché lui la sta spostando altrove quindi la forza di De Luca è essere in realtà lo Stato in quel territorio perché è pericoloso perché non è più questo è un diritto questo è qualcosa che lo Stato non mi dà questo è qualcosa da migliorare è andiamo da De Luca a chiedere vediamo se De Luca ce lo risolve vediamo se De Luca qui può fare qualcosa vediamo cosa e questa personalizzazione poi diventa il feudo quello che è sempre stato il Sud c'erano tre politici in passato che gestivano sostanzialmente il consenso che sono stati poi alcuni considerati mafiosi altri accusati di essere mafiosi ma poi i tribunali li hanno assolti e sono salvo Lima in Sicilia che verrà ucciso da Cosa Nostra perché non riesce pur avendolo promesso a far saltare in Cassazione il maxiprocesso di Falcone e verrà ucciso per questo poi c'era Misasi in Calabria e poi Antonio Gaba in Campania cioè erano dirigenti della democrazia cristiana molto attenti ad ascoltare la comunità e che sostanzialmente rendevano lo Stato capace di risolvere le questioni perché? perché non c'era la macchina del diritto che funzionava quindi io in Calabria non trovavo lavoro andavo da lui io a Napoli non trovavo lavoro quando Gaba divenne ministro non sbaglio ministro delle poste insomma per il peso ministero si riempì di napoletane il ministero perché lui doveva risolvere quello che la macchina statale non riesce quindi diventa il potere individuale diventa come dire una figura capace di coprire le mancanze e perché questo non è soltanto negativo cioè ti sto descrivendo la figura appunto di un satrapo cioè quelle figure che mediavano nell'impero ottomano tra il sultano e la popolazione perché manca 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 proprio la struttura la macchina per cui se ti manca un lavoro se non hai la stanza per tua nonna in ospedale se non sai dove poter mettere il tuo bambino a scuola perché le graduatorie sono tutte scombinate devi andare da lui ma questo non giustifica quello che dicevo prima cioè visto che questo potere locale è così forte e ha questi funzionamenti così strani non è quasi normale che poi si dica vabbè ma quindi anche il problema della mafia è di lì perché lì ci sono delle regole diverse quindi non se ne deve occupare il leader nazionale a parte dire mafia brutta sulle mafie sulle mafie per fortuna negli ultimi anni si è fatto un grande lavoro in questo senso riporto sempre la mia esperienza quando io faccio Venivio con me ormai tanti anni fa raccontai della presenza dell'andrangheta in Lombardia si mi ricordo il giornale titolò firma contro Saviano prese 100.000 firme firma contro Saviano che dà del mafioso al nord ma questa è una roba che tu ti tiri sempre di anche che commercialisti era successa a stare a bavaro si pure i commercialisti adesso te la racconto che ho vinto si scusa se tu interrotta e Maroni ministro degli interni pretese di essere ospitato in trasmissione per smentire quello che avevo detto è che poi mesi dopo fu confermato dall'inchiesta crimine cioè nella presenza dell'andrangheta nel nord Italia io parlai di interlocuzione con la politica della Lega interlocuzione e questa roba li fece spaventare in fastidio bene in quegli anni chi parlava di mafia al nord sostanzialmente parlava di criminali terroni scappati nel nord Italia per salvarsi il culo per mandati addirittura come dire al domicilio coatto che si facevano si prendevano i mafiosi e venivano spediti nel nord Italia agli anni 70 agli anni 80 si feceva proprio così e quindi veniva letta in questo modo cioè sì vabbè terroni che vengono a fare il crimine ad Asiago invece ci fu per la prima volta uno scatto cioè l'imprenditoria settentrionale si nutre del danaro delle mafie in un'alleanza che rende una parte dell'imprenditoria settentrionale vincente che poi è tutto quello che sta dietro la riflessione che si fa dei rapporti tra Berlusconi e Cosa Nostra la figura di Dell'Utre è tutto legato a questo cioè quanto i soldi di Cosa Nostra siano stati dentro con le dinamiche la sua ricchezza che no la storia non avrà mai termine non avrà mai sentenza ma è importante questo passaggio cioè non è quindi il calabrese il napoletano il catanese che viene a Rò e fa estorsione a qualche baretto e vende il fumo perché così viene percepita per la prima volta finalmente si inizia a parlare e questa cosa fatta in televisione generò questa risposta si inizia a parlare non più di un problema legato al sud non più di un problema di meridionali che invadono il nord direbbe l'olobrigide che fanno sostituzione etnica dei settentrionali si inizia a parlare di un'economia viva e guarda che questo a parte che non è mai non c'è mai poi stata un ritorno nel senso che le organizzazioni criminali nel nord Italia sono sempre più floride quindi non c'è stato un punto di crisi in cui sono ritornate nelle periferie diciamo palermitane o napoletane anzi anzi le mafie stanno abbandonando il sud come investimenti non conviene più non conviene più le mafie che quando io ero ragazzino le voci poi insomma più o meno reali spesso ammantate da leggenda ma altre volte invece piene di esattezza ti dicevano quel supermercato è di una famiglia mi ricordo che c'era un venditore di radio impianti stereo che era legato alla famiglia di Lauro e aveva le cose più all'avanguardia in assoluto andava a prendere direttamente nell'estremo oriente andava a prendere direttamente in sud corea perché? perché loro avevano una società di import export al porto di napoli e quindi poi si fece il loro negozio quindi la mafia le mafie investivano per fare soldi depredavano distruggevano e facevano grano adesso mollano non preve niente adesso prendono e vogliono direttamente costruire nel nord Italia investire in germania portare i soldi in portogallo e in Grecia portare il danaro cash nei paradisi fiscali e il sud diventa davvero una scatola vuota di manovalanza e in più c'è un altro elemento mai far crescere il territorio dove insiste il tuo potere perché se lo fai crescere quel territorio può fare a meno di te certo per tipo te perché così tutti hanno bisogno di venire da te e chiederti delle cose quindi su cento persone una deve avere la vittoria in mano il danaro e possibilità di cambiare la sua vita gli altri 99 devono sempre stare a piedi dell'acqua ma tu hai l'impressione che questa questo discorso della settentrionalizzazione delle mafie sia in qualche modo affascinante abbia piglio nell'opinione pubblica dipende nel senso che perché a me sembra di no c'è stato ci siamo vabbè no è che c'è meno non si ha paura cioè non si ha paura esatto no nel senso qual è il problema io mi ricordo in un'inchiesta fatta sempre l'inchiesta crimine che è stata l'inchiesta più importante in fondo mai fatta la fece a Bocassini Pignatone i Ross insomma un'inchiesta molto seria che parla della presenza dell'organizzazione dranghetista qui proprio qui a Milano in tutta la Lombardia da lì poi sono gemmate tantissime altre inchieste pensa che lì c'era l'asl di Pavia al centro l'asl di Pavia una delle più grandi d'Europa uno dei più grandi concentrati sanitari d'Europa il capo dell'asl di Pavia all'epoca capo insomma un uomo dei vertici in un'intercettazione prega un suo contatto un contatto con cui faceva affari comprava macchinari dava percentuale insomma prega questa persona di poterlo affiliare all'andranghet cioè dice ma io sarei un perfetto andranghetista me lo sento me lo sento la vocazione e dice io guardo tutti i film guardo tutti i film da certo questo ovviamente all'altra parte che era un uomo d'onore diciamo di livello di gerarchia inferiore quindi diciamo una società minore cosiddetta e lo derideva ci siamo guarda chissà e questo personaggio si farà il carcere i familiari interverranno cercando di dire ai magistrati ma non non è mai stato un mafioso un coglione sarebbe questa questa fissa è una roba no 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 e questo per dire cosa per dire che in realtà nel nord Italia le organizzazioni stesse hanno iniziato a cambiare passo e infatti in quel caso c'era una figura tra l'altro mi ha correlato diverse volte ho sempre vinto di cardiologo del nord Pino Neri uomo d'onore da Andrangheta lo so che tu hai fatto quella faccia se no come cardiologo uomo d'onore in realtà moltissimi vertici dell'organizzazione criminale anche siciliana ma anche negli anni 40 sono medici sono medici ok medici medici laureati comunque diciamo borsani di cultura e anche quando non c'è diciamo la cultura umanistica nel senso che Rina si definiva io sono un quinto elementare o addirittura un terzo elementare in realtà c'è una sapienza dentro la gestione delle cose dicevo tornando a Pioneri sai cosa accade accade una cosa incredibile gli dragatisti lombardi sono stanchi di dipendere dalla mamma la mamma è San Luca da Spromonte tecnicamente cosa significa dipendere significa che qualsiasi ruolo gerarchico deve essere prima deciso a San Luca per cui se per esempio oggi vuoi investire in questo teatro e sei un locale di indrangheta locale non si intende tipo bar locale struttura un'organizzazione un luogo dove afferiscono almeno due famiglie tu sei un locale di indrangheta e vuoi comprare questo teatro lo puoi fare ma nel momento in cui per esempio viene detto che questo locale l'organizzazione può essere gestito solo da un santista un livello preciso della società indranghetista ma non ha nessun santista in zona e San Luca a decidere qual è l'uomo che può gestire quell'affare o che può fare una negoziazione questa cosa dava sempre più fastidio alla struttura lombarda dell'indrangheta perché non dobbiamo essere noi che non parliamo più calabrese che viviamo qui da decenni che siamo nati qui perché deve decidere sempre San Luca sappiamo più noi e allora tentano il colpo di Stato vogliono scindersi e vogliono provare scindersi è una parola troppo grave vogliono autonomizzarsi federarsi e addirittura trovano un nome cioè la polona vogliono chiamare l'organizzazione la lombarda e cosa fa questo personaggio questo personaggio fa il doppio gioco cioè avvicina una persona che aveva un incarico formale molto importante in Lombardia novella e gli dice iniziamo a dare le gerarchie noi apriamo i libri noi si dice in gergo cioè Alessandro lo dobbiamo far diventare Vangelo non andiamo a San Luca lo facciamo diventare Vangelo noi gli stipendi li decidiamo noi gli investimenti che già potevano fare in autonomia ma dovevano sempre avvertire li facciamo senza avvertire vediamo che succede e questo novella dice ma effettivamente non è una cosa così balsana cioè noi abbiamo un ruolo non ci mettiamo contro nessuno gli affari li facciamo qui nel nostro territorio dove noi abbiamo un potere che ci viene riconosciuto ma perché dobbiamo dipendere non si arrabbierà nessuno poi va a San Luca e glielo va a dire alla mano comunque lì lì stanno facendo un casino novella sta facendo l'autonomizzazione e perché fa questo doppio gioco lui era arrabbiadissimo che lo avessi svelato negli articoli era addirittura in televisione fa il doppio gioco perché vuole capire se è il momento dello strappo o è un primo passo e quindi sacrifica come accadrà succede a un certo punto che questa persona che sta facendo un'operazione di autonomia non venga invitato a un matrimonio non viene invitato a un matrimonio importante e quindi fa questa telefonata dove dice ma come mai manco i matrimoni sono veri e propri summit e la risposta è incredibilmente letteraria la risposta è non va da scalzo chi semina spine come dire ti sei mosso senza avere la forza militare di poterti difendere e lui capisce che è morto e si chiude in casa si chiude in casa e ovviamente le indrine di San Luca gli mandano sotto due killer fissi girano la zona fin quando non esce lui non esce poi uscirà pensandosi al sicuro e chiaramente lo ammazzano ma perché ho raccontato questo episodio perché c'è un altro dettaglio rapporto sud nord qui a Milano c'è una cosa che non esiste alle nostre parti anche in Sardegna c'è tipo chiedono il cappuccino chiaro mai sentita questa cosa capuccino chiaro sì una cosa non si capisce comunque chiedono il cappuccino chiaro è una roba cosa fanno i killer che anche loro non capiscono diciamo il fare milanese entro in questo bar si vede che gli hanno detto fate i milanesi e si sbagliano dicono possiamo avere due cappuccini bianchi bianchi ok il barista infatti si ricorda di questa cosa lo dice la polizia dice io ho capito che non erano di qua perché avevano chiesti i cappuccini bianchi ok e invece dovevano chiedere dovevano dire i cappuccini chiari dettaglio per dire no che mentre noi ancora facciamo fatica a ragionare del ruolo nazionale e internazionale delle mafie le mafie le mafie addirittura stanno iniziando ad avere una struttura locale autonoma le mafie tradizionali autonoma per cui decide Milano decide Torino decide Roma cioè decentralizzata diciamo completamente e il codice che invece nasce in queste in questi territori e continua a esistere in questi territori perché tra l'altro sono frutto di una cultura che protegge quei codici stessi la cultura dell'omertà e la una possibilità per esempio di trovare persone disposte ad ammazzare per cifre irrisorie l'affiliazione base guarda che uno stipendio tra 400-500 euro al mese l'affiliazione base questo ovunque in Italia o soltanto al sud parlo delle famiglie tradizionali nel senso che se tu hai qui è un po' diverso nel senso che se hai delle organizzazioni che hanno persone al nord lo stipendio sarà magari un po' più alto perché il costo della vita qui è più alto ma anche nelle carceri lo sai che se tu stai per esempio a opera lo stipendio è più alto rispetto a che se stai in carceri a Lucerdone perché la spesa a Lucerdone costa meno a opera o a Novara costa di più quindi l'organizzazione ti alza lo stipendio questa è una cosa di cui per esempio in genere le persone non sanno le mafie ti danno uno stipendio hanno una tredicesima ti danno i soldi se per esempio hai un figlio handicappato c'è l'intervento diciamo in caso di un'emergenza legata familiare legata diciamo al terremoto per dire perdi la casa con il terremoto l'organizzazione ti rimette sulla casa però sono cose che possono avvenire soltanto in territori estremamente depressi economicamente depressi perché se no chi lo trovi uno che per 450 euro fa delle cose così no? quindi immagino che quando c'è questa decentralizzazione al nord sia differente oppure si vada nelle periferie in cui effettivamente c'è questo disastro si vada nelle periferie assolutamente al nord si vada nelle periferie ed è questa una delle ragioni per cui in genere i capi militari raramente discendono da famiglie borghesi cioè tu hai Navarra stiamo parlando anni 40 anche prima hai Navarra capo corleonese della fazione corleonese che ancora non comanda cosa nostra anzi è marginale che è un medico di base per esempio no? oppure hai Ciccio Norato che è un killer l'assassino di Salvo Lima per intenderci il quale dice esplicitamente nelle sue confessioni dentro le organizzazioni ho conosciuto tantissimi avvocati notari che non hanno mai avuto vantaggio economico dall'organizzazione ok mai ma ne avevano di identità di senso di sé di partecipare alla gestione della vita di tutti e quindi questo per dirti semplicemente che è più difficile un capo borghese perché è raro in un'organizzazione trovare un capo che non ha ucciso certo è fondamentale trovare un capo che ha ucciso perché un capo rispettato è un capo che sa ricoprire tutti i ruoli che dirige guarda questo è anche in un'azienda questo è anche in un'azienda se tu sai fare tutto ciò che i tuoi sottoposti devono fare diciamo coordinati o ordinati da te sei più rispettato esattamente come il comandante sul campo di battaglia è accanto ai suoi soldati o quello che sta in tenda quello che sta in tenda è disprezzato certo bene e non è un caso che infatti in Cosa Nostra la struttura gerarchica poi fermami se no mi addentro in questa roba non ne usciamo più non è un caso che nella nella nelle strutture di Cosa Nostra per esempio c'è il boss il consigliere il vice capo e il capo decina mi sono sempre chiesto ma perché non c'è capo vice capo consigliere perché c'è capo consigliere vice capo perché il consigliere può anche essere un uomo che non ammazza e non ha mai dato ordine di morte ah è una figura più però coordina in caso manchi il boss non può comandare perciò ci deve essere il vice capo lui vale di più del vice capo con la presenza di un capo ma se il capo non c'è lui non può comandare perché non ha mai ucciso gli manca un passaggio questa cosa porta l'organizzazione ad avere sempre capi che a meno che non siano già figli di boss o anche non di boss di affiliati e vengono presi tra le classi più disagiate perché oggi l'indennizzo per un omicidio è intorno ai 5.000 8.000 ho sentito recentemente che hanno dato 10.000 euro insomma queste sono le cifre al di là dello stipendio base per un omicidio diciamo e in genere è più viaggio che ti fanno andare via un po' ti togli un po' da mezzo e ti danno 10.000 ma poi dipende dall'organizzazione un'organizzazione in agonia ti può pagare anche 1.000 2.000 dico al di là dello stipendio base poi ci sono anche stipendi importantissimi c'è un santista per arrivare a 100 150 milioni al mese e poi i capi non hanno neanche la misura dei soldi che hanno non stanno neanche quanti soldi hanno e in ultimo il mafioso non lavora mai per i soldi solo per il potere i soldi sono una declinazione necessaria e fondamentale del potere ma non sono il fine del resto anche vedere denaro come ha vissuto negli ultimi vent'anni della sua vita stanze non è una roba che gli invidi alla fine no per niente secondo me la prima cosa che colpisce a tutti che sono queste strutture gigantesche per fare delle vite orrende sinceramente orrende sei nascosto con un nome diverso a parte che la stanza di Messina è quasi imbarazzante c'è i poster c'è una roba con il Joker secondo me gliel'hanno fatta a me piaceva Joker ah ti piaceva quella stanza quindi anche tu vivi così c'hai il bilanciere Joker non c'ho Joker ma c'ho il bilanciere c'ho ok vabbè che in effetti chi vive recluso vive allo stesso modo però c'è il bilancio c'è sempre sempre quello sempre ok a te questo io vorrei anche un po' entrare nella tua vita nel senso non è che te la invidi anche nel senso non vuoi te offendere però è comunque la vita complicata non so hai detto che non invidi il senso non invidi no 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 sono una persona poco invidiosa evidentemente hai scelto persone che sanno la vita in merda ma a te tu sei stato spinto dalla rabbia quando hai fatto questa scelta è proprio palese sì che provi ancora quella rabbia purtroppo sì non è chi mi ascolta e fa meditazioni o frequenta semplicemente il suo analista saprà che è un'emozione è un sentimento per nobilità tossico e quindi io sono attraversato da una rabbia costante purtroppo sì e ti fa anche rabbia come vieni come vieni descritto come vieni percepito dopo la fatica che hai fatto per dopo quello che hai purtroppo sì nel senso che negli anni diciamo mi fanno meno male il che non significa che non siano gravissime le copertine i siti e giornali squadristi che mettono te quindi ti mettono un bersaglio addosso e ripeto questo accade in Turchia questo accade in Venezuela questo accade in Ungheria anzi in Ungheria abbastanza meno cioè gli intellettuali presi a bersaglio gravissimi perché l'intellettuale cosa ha? si paga da solo le spese giudiziarie non ha strutture di potere per cui se io sono un leader di un partito ho il Parlamento stesso che mi difende e mi dirigittima certo ho imprenditori che mi sostengono ho la potenza delle conferenze stampa posso orientare un pezzo di economia e quindi non sono solo un intellettuale invece cosa ha? le sue parole se tu gli metti il bersaglio addosso se tu lo stigmatizzi lo metti così metti il suo corpo così in vista basta che vai online e vedi quante volte sono finito su questi giornalacci sitacci squadristi anche stamane appunto in copertina il messaggio che loro stanno dando è pensala come lui finisci come lui quindi attenzione a fare quella cosa lì perché questo è il risultato non è la tazzo una parte come dire non votate questa parte che è diverso e se ragioni così se prendi quella posizione finisci così e il messaggio non è mica poi all'elettorato il messaggio è agli altri infatti taccio agli altri intellettuali agli altri giornalisti perché? perché se fai lo sceneggiatore poi non ti chiamano in quel film perché quel film è finanziato dalla banca e quella banca ha nel comitato determinate figure e perché poi se invece scrivi quella roba poi l'editore se la prende è tutta una questione di portare poi a casa il danaro la propria carriera hanno tutti paura tutti paura e negli ultimi anni ci siamo trovati in pochissimi tra me e la mia amica Michela Murgia tra l'altro spesso ce lo diciamo non è che queste cose ti portano a vendere copie o ti portano a arricchirti il contrario portano solo guai spese isolamento pressione del resto se portasse vantaggio lo farebbero tutti certo c'è stato un momento in cui ha portato vantaggio esporsi attaccare Berlusconi in quella fase portava vantaggio tantissimi si esponevano perché esisteva un pezzo di mondo che ti proteggeva esisteva diciamo un'articolazione culturale imprenditoriale per cui se Berlusconi ti cacciava dalla Rai poi noi facevamo vieni via con me abbiamo fatto lo share di Sanremo a Rai 3 certo oggi non è così e non è così per molte ragioni non ultimo il potere economico che non si ha più tu andavi sul Rai 3 portavi tanto share arrivavano i soldi soldi con cui ti difendevi soldi con che investivi vendevi milioni di copie i giornali arrivavano ovunque quindi avevi una forza economica con cui ti difendi e una forza reale la comunità che ti legge ma il click non ti porta niente certo ti porta niente ti porta qualcosa nel senso che per esempio il mio Instagram il mio Facebook il mio Twitter TikTok adesso piano piano pure facciamo sono luoghi per me rimasti veri e propri spazi di resistenza oggi i giornalacci che mi hanno attaccato mettendomi in prima pagina hanno ripreso mica un mio articolo una mia intervista hanno ripreso un mio post e questo significa perché significa arrivare a moltissime persone a volte i miei post arrivano 2 milioni 3 milioni 4 milioni 5 milioni di persone cioè più di qualsiasi giornale quindi chi decide di seguirmi su Instagram anche non condividendomi ci sono di dirsi un'altra storia si mette dentro un flusso di informazione di dibattito che io non posso più tenere altrove YouTube per esempio mi permette di parlare più a lungo le dirette mi permettono di avere un'interlocuzione che la televisione non mi dà più quindi sono uno spazio che per esempio per me è rimasto l'ultimo spazio di resistenza e il primo spazio di condivisione che però significa che tantissime persone comunque continuano a seguire rispetto al tuo lavoro e a starti vicino insomma sì sì cioè paradossalmente che te lo dicevo anche prima quando io ho iniziato a dire in giro che in giro non è che lo dicevo per strada però ho iniziato a sapere che insomma avrei parlato con te molta resistenza è arrivata da persone del tuo territorio da napoletani ma come hai diffamato Napoli sì 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 cioè si torna sempre un po' in quella roba lì no? ah questo mi fa molto incazzare nel senso che sai sono quelle cose che poi fai meglio a non dirle ma mi hai portato qui no no ma infatti meglio dirle sai una delle cose più stupide che in questi anni viene ripetuta è che raccontare la ferita della propria terra significa insultarla o diffamarla è esattamente il contrario se oggi Napoli ha avuto un riscatto da tutti i punti di vista sta avendo un riscatto da diversi punti di vista positivo alla luce che il territorio ha avuto alla luce e quando tu illumini la New York devastante negli anni 80 piena di epidemie di eroina devastata dagli anni 70 delle gang delle organizzazioni criminali quando Spike Lee Scorsese e mille altri decidono Michael Jackson con il suo meraviglioso video decidono di raccontare quella terra boom quella terra riparte innanzitutto incuriosisce incuriosisce e ci si trova una storia universale non è che le storie che racconta Spike Lee o le storie che abbiamo raccontato noi a Napoli non sono storie universali sono storie di conflitto di famiglia di potere di rabbia di morte di violenza di invidia e quindi tu quel territorio lo fai diventare teatro del mondo non è che stai raccontando New York al mondo o Napoli al mondo stai raccontando il mondo attraverso New York e il mondo attraverso Napoli quindi innanzitutto stai donando il tuo territorio una platea internazionale cioè lo rendi simbolo questo accade sempre chiunque racconti chiunque faccia diciamo poi letteratura o arte secondo illuminare significa iniziare a porsi il problema quindi iniziare ad affrontarlo e lo affronti con l'attenzione che il mondo ti sta dando cioè se tu riesci ad attirare l'attenzione del mondo anche l'attenzione profonda tu stai dando al tuo territorio una risorsa immensa la possibilità di cambiare le cose dinanzi a una comunità che vuole capire giudicare anche ma esserci c'era stata una compagnia aerea una di quelle low cost che aveva fatto uno studio interno aveva visto che appunto Gomorra e la Ferrante erano tra i motivi per cui la gente in scala a Scandinavia decide di scegliere Napoli questo un po' di anni fa diceva come? ma certo perché vuoi vedere un territorio così complesso lo vuoi vedere da vicino ancora di più quando è un territorio affascinante dove mangi bene dove è un clima particolare quindi tutti quegli archetipi che sono convinti che abbia infangato abbia messo il secondo piano sono esaltati nel momento in cui tu stai illuminando quel territorio ciò significa che se c'è un riscatto questo riscatto può partire solo dal riconoscere i problemi e mentre sta raccontando il proprio problema il territorio sta sdisvelando in realtà dinamiche che sono presenti ovunque quindi Napoli in quel caso ma poi ci sono insomma serie o racconti che possono portare a parlare di altri territori diventa una porta di accesso al proprio tempo diventa una città internazionale se io racconto Marsiglia e il racconto di Marsiglia arriva ovunque io non sto diffamando Marsiglia io sto rendendo quell'angolo un angolo universale e porterò turismo curiosità investimento e soprattutto se tu vuoi risolvere un problema la prima cosa che deve accadere è il riconoscere certo e invece la metafora che io utilizzo sempre è quella del cadavere in una stanza buia cioè c'è un cadavere in una stanza buia una persona entra accende la luce e segnala che c'è un cadavere di chi è la colpa di chi ha acceso la luce perché anche se l'avevano ammazzato anche se lì c'era un corpo senza vita fin quando era tutto buio si potevano andare tutti avanti quindi no scusami no no vai vai dimmi no credo che diciamo che la critica io sono d'accordo con te sul fatto che i problemi si risolvano parlando dei problemi e non nascondendoli ma credo che sia anche un discorso che ti fanno di mostrare altri aspetti che si vorrebbe magnificare rispetto a quelle robe lì perché per dire io prima di Gomorra io non sapevo niente di tutte queste cose io figlio io sono sardo io vivo in una bolla mia cioè per me l'Italia a un certo punto è tutta uguale cioè tutto sono sardo quindi ci capiamo è sufficiente sono sardo sono esterno a tutte le questioni e quindi cioè queste robe io le ho conosciute molto tramite te io penso che tantissime persone abbiano fatto lo stesso e quindi uno degli approcci che hai è quella roba magari la serie addirittura per molti che magari non hanno letto il libro vedono la serie e dicono ok Napoli è quella roba lì e io penso che le persone così orgogliose navoletane campane abbiano paura di essere identificate così ti racconto una cosa per farti ridere per distruggere un'amicizia così sul palco io ho un amico quello che ho conosciuto Matteo che è bergamasco e lui ogni tanto è venuto a Cagliari e mi prende sempre in giro perché noi in Sardegna siamo ipernazionalisti sulla Sardegna e quindi tu arrivi a Cagliari e vedi bandiere statue bronzetti cose siamo un po' il Texas d'Italia abbiamo questa fissa siamo ossessionati e io la prendo un po' in giro questa cosa tutte le aziende hanno un qualche richiamo a parole Sardeg compresa una che ho fondato io cioè una roba quale? Heia è un grande abbiamento la conoscevo ok e quindi insomma mi fa ridere nel momento in cui lui mi ha fatto notare questa roba mi ha fatto ah però che schifo ma come ti permetti? cioè io posso criticare questa cosa ma gli altri no e in realtà scherzo ovviamente Matteo ti voglio ancora bene spero che tu me ne voglia ancora ma la questione non è tanto quella quanto io so che nel mio territorio c'è tantissimo e quindi non voglio essere identificato soltanto come il pastore soltanto perché c'è la roba che ti ricorda quella cosa lì quindi io magari ci scherzo sulla pecora no la pecora però fa ridere la pecora magari si innesca la stessa dinamica cioè sappiamo che Napoli ha tanto ipotizzo perché credo che tu abbia identificato bene abbia descritto proprio bene diciamo la fenomenologia del risentimento perché così cioè anche se è vero voglio essere io e soltanto io a poterlo affrontare il tema e anche se è vero in realtà la mia terra è talmente tanto alto e ha talmente tanto di più che il tuo racconto mi fa sentire costretto in una in una in una dimensione che non sento completa dov'è qui diciamo la fallacia di questa dinamica è che innanzitutto tu non stai raccontando Napoli stai raccontando in quel caso della criminalità organizzata che domina su Napoli che rischi di essere omertoso su quel tema se inizi a considerarlo quando lo identifichi svantaggioso per l'immagine della tua terra perché dico è un rischio gravissimo perché la terra la sta già martoriando perché la tua terra è già condizionata e avvelenata da questo potere meno ne parli meno si interverrà meno ne parli meno si conoscerà il cortocircuito però è anche frutto chiaramente di dinamiche complesse senso di inferiorità senso di colpa a fronte di una percezione invece di un territorio meraviglioso di una cultura unica poi riguardo Napoli ma è stata capitale di un regno l'immigrazione il fatto che in realtà se tu vuoi realizzarti nel sud Italia ma anche danno in Sardegna la prima cosa che ti viene detta di fare e che senti di fare è andare via è difficilissimo potersi realizzare nel proprio territorio oggi impossibile direi quasi ti devo aiutare molto la famiglia o hai un particolare talento o hai addirittura una vocazione quasi missionaria per cui diciamo ok decido di non andare via ma altrimenti la prima cosa è andare via metti tutte queste cose insieme e che cosa succede? diventa bersaglio quello che accende la luce se è vero che tutte le cose che vengono affrontate non vengono risolte è altrettanto vero che le cose che vengono risolte sono state affrontate quindi io devo accendere la luce per poter cambiare ma questa dinamica accadde identica quando Mario Puzzo scrisse Il Padrino e accadde alla comunità italo-americana che lo considerò un pari un infame eppure Puzzo aveva acceso diciamo una luce letteraria Il Padrino è un libro bellissimo poi il film anzi la trilogia è un capolavoro quindi spesso il capolavoro ha mangiato il libro è un libro bellissimo intanto in quella trilogia ha partecipato attivamente Mario Puzzo c'è mi ricordo una volta stavo leggendo il saggio più bello in Italia più stato ripubblicato sulla storia degli utoli americani che si chiama proprio La Storia l'autore siciliano sicolo americano si chiama Mangione Jerry Mangione il libro è bellissimo racconta la storia di come milioni di italiani vanno nelle americhe di come vengono trattati umiliati considerati al di sotto della gerarchia sociale dei neri perché gli afroamericani parlavano inglese gli italiani no gli irlandesi parlavano inglese gli italiani no gli slavi paravano subito a parlare inglese e polacchi gli italiani no quindi era una gerarchia sociale più bassa di tutte piccola parentesi gli italiani bianchi si considerano solo loro nel mondo gli italiani non sono considerati bianchi gli italiani sono considerati parlano considerati nella logica razzista no black non sono considerati white per niente solo gli italiani credono di essere bianchi c'era una battuta c'era una battuta di un telegiornale satirico forse tu lo conosci non ricordo l'ho visto su instagram che c'è questo telegiornale satirico dove riporta la notizia di giorgia meloni fa giorgia meloni contestata perché vuole un'identità bianca il giornalista si lo fa si c'è verso il collega ma perché gli italiani sono bianchi ah si 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 è un classico questo della comicità americana tornando a geni mangione il libro è bellissimo poi c'è il capitolo contro mario puzza cioè fa un capitolo contro puzza in senso il tarla era un giocatore d'azzardo un chiave che per questo ha dovuto fare quel romanzo che umilia gli italiani quindi persino uno storico intelligente come lui si è sentito nel momento in cui c'è stato questo racconto umiliato non perché avesse mentito puzza tra l'altro il padrino capolavoro ribadisco sul potere sul senso della famiglia sul tradimento che va ben oltre la storia della comunità etoamericana chiaro però si è sentito aggredito è solo che sbagli nemico sbagli nemico cioè in realtà puzzo aveva avuto un compito importantissimo quello di svelare ciò che stava morbando e distruggendo la comunità italiana ma soprattutto il potere tossico del crimine voleva raccontare una storia una storia fatta di regole quindi affascinante perché quando io racconto queste regole chi mi ascolta è chiaramente affascinato io stesso sono affascinato e perché siamo affascinati perché sono forme che ci permettono di conoscere la realtà a un grado più profondo ecco perché ci piacciono quando sono fatte bene quando non sono fatte una chiavica le serie crime o i film crime perché ci piacciono davvero a tutte queste persone alle milioni di persone che leggono e osservano queste storie piace o interessa capire l'andrangheta la sacra il narco no perché tramite quelle storie tu vedi delle dinamiche che altrove sono protette ovattate certo sono dinamiche epiche epiche e che ti mostrano vita morte potere ricatto fiducia i miei personaggi per esempio quando lavoro di fiction cadono sempre se ne può accorgere solo che è veramente molto attento ma cadono sempre quando si fidano chi si fida realmente cioè un certo punto dai fiducia veramente a qualcuno cadi perché stai affidando la tua vita di un'altra persona sopravvive sempre chi in fondo non si fida mai completamente di nessuno è una cosa che tu applichi alla tua vita anche questa certamente non ti fidi di nessuno di nessuno completamente di nessuno di nessuno purtroppo è una dannazione per me nel senso non è qualcosa né di piacevole né di cui vado fiero con me stesso è un orrore per me io sono alla ricerca perenne di trovare un momento in cui mi possa fidare completamente ho persone verso cui mi fido dentro della mia testa proprio vedo ok tu sei 90% tu sei 30% è un calcolo che faccio terribile però è così poi alcuni 30 diventa 50 diventa 80 diventa 90 poi riscendono ho sempre è dovuto a è dovuto a un senso di assedio costante non sai mai le persone quando si è vicino cosa cerchino e anche quando non cercano niente hai paura che possano averti idealizzato e quando tu idealizzi una persona la stai costringendo a deluderti certo e questa cosa è per me insopportabile questo è evidentemente un applauso di incoraggiamento ciao buofabrudu no ma ti riportiamo a terra subito basta che ti faccio delle domande personali più vado in basso più ti umanizzo insomma sai che in realtà una cosa che mi aveva molto fatto appassionare alla tua storia molti non se lo ricorderanno però tantissimi anni fa ti aveva seguito un periodo e tu avevi detto una frase che mi aveva molto colpito e che poi non hai più veramente trattato sotto quell'aspetto che era quella di una sorta di malinconia e depressione che ti trascinavi immagino soprattutto in quel periodo che era molto caldo per te se non sbaglio tu parli proprio a un certo punto della tua scorta che ti recuperava in qualche modo in un momento in cui tu eri particolarmente giù e se non sbaglio io non l'ho rivista l'intervista ma pensa tanti anni fa che tipo ti recuperava e metteva su un piatto di pasta mi sembra dicessi questa frase successe successe molti anni fa a parte che succede anche adesso che chiaramente noi viviamo sempre vicini in una squadra numerosa insomma e quindi un tuo malessere soprattutto chi poi ha iniziato a volerti bene perché c'è chi è più professionale che non si dice fa male il suo lavoro anzi però magari si fa coinvolgere emotivamente di meno o più timido e altri invece che sono più cioè ti vogliono un bene un po' più passionale e quindi succede quando sono giù nell'abisso mi viene detto facciamoci una passeggiata proviamo ad andare fuori cioè riprendiamoci io facevo riferimento a una cosa però di molti anni fa ero proprio all'inizio per cui a un certo punto decido di chiudere forse appena arrivato a Roma appena arrivata? a Roma mi chiudo proprio dentro nel senso che quindi non apro più le finestre non lo scrivo ai miei perché tu devi dare poi giorni prima i tuoi programmi i tuoi spostamenti e quindi io non davo più messaggi per cui loro allora venivano a citofonare io al citofono dicevo no non ho bisogno di tutto ok non esco non esco non esco non esco non esco giorno in cui sei sempre chiuso 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 ero particolarmente sconvolto dal fatto che il telefono lo spegnevo poi quando lo accendevo tipo per mezz'ora vibrava non c'era ancora lo smartphone vibrava per tutti i messaggi alla gente che mi cercava o voleva dichiarazioni ogni mese tiravano fuori una minchiata contro di me una roba un parente di una vittima che mi attaccava in qualche modo poi andavi a scavare non mi aveva attaccato e poi che ne so una volta successe che un tizio che aveva il nome di mio padre fu coinvolto in un'inchiesta l'altra inchiesta su cui stavo lavorando proprio io solo che questo qui che si chiama come mio padre faceva il veterinario mio padre non era veterinario ok e ma non importò alla stampa che titolò padre di Saviano coinvolto in l'inchiesta e non era mio padre non era mio padre era un omonimo ma per due giorni hai avuto tutti i giornali d'Italia che segnalarono tuo padre responsabile e se ne uscì fuori perché il mio avvocato e il mio padre si presentarono in procura e la procura disse no non siete voi e a quel punto uscì la notizia pensa pensa no pensa bene e lì al ventesimo quasi un mese io non sono uscito succede spesso succede spesso succede spesso che non esci per un mese? succede spesso che sono chiuso per molti giorni comunque sì a quel punto loro con una scusa entrarono dicendo no dobbiamo consegnare un atto che sarebbe una querela quindi aprono la porta invece entrano aprono le finestre ci si mangia ci si fa la barba e si avvia ma in realtà è un costante e continuo sentirsi esposto che ti distrugge cioè per esempio ho iniziato a soffrire di crisi di panico che ho mai sofferto di crisi di panico sono militante della crisi di panico ne soffro un sacco sì eh io non ne avevo mai sofferto diciamo prima di un po' di anni fa per cui le crisi di panico nascono proprio così mi salgono nel momento in cui sono il bersaglio di tempeste di merda mi sento poi molto solo perché colleghi o altri o sentono che il loro intervento è inutile c'è anche questo o sono ben attenti a darti un aiuto un messaggio privato ma non esporsi ma non esporsi mai perché comunque c'è quello da piazzare l'appalto da avere la strategia da fare e e lì il corpo reagisce con un senso di assoluta asfissia e poi interessante in genere la crisi di panico viene descritta come un allarme di un pericolo inesistente nel mio caso il pericolo non è inesistente anche solo non parlo di pericolo fisico ma parlo anche proprio di continuo pericolo sulla reputazione che è diciamo oggi negli Stati Uniti si dice proprio l'uccisione del carattere sì 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 character assassination so che la traduzione non è filologicamente giusta dire carattere ma mi piace invece spendere così cioè l'uccisione del carattere con carattere dentro tutto della persona ma anche della specificità di quella persona e oggi quello è il primo obiettivo e per uno scrittore questa cosa è terribile perché lo scrittore deve essere contraddittorio deve sporcarsi deve sbagliare deve cadere deve rotolarsi nella merda deve impanarsi nella merda come i miei maestri Volman Hemingway Zola che erano nella vita non erano monaci che dovevano rappresentare una condotta mistica anzi e quindi il panico mi arriva quando io non riesco più a gestire cioè poi soprattutto mi dico ma quanto ancora deve durare come finirà quando finirà sai e a un certo punto della mia vita io sono finito in questa situazione molto giovane avevo 26 anni oggi ne ho 43 quasi 44 e la prima fase io riuscì a viverla con una consapevolezza abbastanza delirante cioè pensai ok mi fanno durare poco cioè tra un po' è finita come una paranza sì e sai c'era Peppe Setola che faceva morti per strada con Raffaele Cantone ci venivamo spostati perché considerati in bersaglio una volta io parlo proprio all'inizio 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 fu portato su un'isola e intervenne Giorgio Bocca buonanima che fece un articolo dicendo ma veramente sull'isola potrebbero essere portati i criminali no è un'isola sperduta non chi diciamo è obiettivo di questi criminali io non ne potevo più distarci su questa isola che poi non la cito perché so che è un'isola bellissima tutti ci vogliono andare non ci metterò mai più piede però dalla Sardegna no no non è Sardegna non è Sardegna lo so che hai pensato alla Sinara no no anche se mi fu proposto pure Sinara la Sinara ti fu proposta ah proprio però Sinara era era già dismessa in quella fase quindi fui portato in un'altra isola diciamo apparente è sempre uno scoglio no l'isola non è uno scoglio questo era proprio uno scoglio ma che d'estate si riempi fui portato in bed ma comunque quindi tu cosa pensi pensi ok tre anni mi fanno fuori quattro anni mi fanno fuori io poi avevo 26 anni che potere poteva avere per ottenere la scorta certo è un ragazzo un ragazzo si è laureato da un po' quindi non è che tu dici ha condizionato se l'è fatta dare quindi io l'accetto la subisco e poi vedo quello che succede vedo quello che succede e quando a un certo punto successe appunto tutta la vicenda delle minacce fatte in un'aula di tribunale storia anche quella profondamente angosciante perché è un avvocato è un boss che fanno diciamo una minaccia la minaccia attenzione non sono io a interpretarla è la procura antimafia di Napoli che rinvia a giudizio queste due figure per aver minacciato me e non soltanto me e il processo dura da 17 anni più o meno forse un po' meno cioè ma o vera cioè ma come è possibile cioè capito tu hai una situazione in cui anche una riconoscibilità di quello che ti sta succedendo anche una mappatura di quello che sta succedendo è devastata dalla lentezza dall'inefficienza da da un paese veramente incapace di poter affrontare queste cose stiamo parlando di un reato di minaccia con aggravante perché il primo grado c'è stato e di minacce con aggravante mafioso con l'articolo 7 formalmente sono un anno un anno e mezzo poco più di una persona che è in carcere con una valanga di ergastoli per fare un processo per una persona che ha una valanga di ergastoli ci metti tutti questi anni immagina se questo non avesse gli ergastoli immagina se fosse una persona che ha fatto con la minaccia ma con un curriculum diverso è impossibile praticamente e allora è impossibile arrivare a una verità perché ci sarebbe stata sì ma un'esagerazione ma un'interpretazione io a volte ci penso se una persona che ha diversi ergastoli quindi ha ucciso persone ma non una decide che è stato a capo ed è a capo di un'organizzazione criminale la procura dà gli elementi per dire che c'è stata una minaccia c'è un primo grado anche che ti confermo che c'è stata una minaccia ma che altro che elementi devi trovare più oltre questi persino questa dinamica che è la più facile del mondo è un uomo con precedenti è un uomo in carcere persino questo ci mette quindosian immagina altre immagina altre situazioni e quindi mi è arrivata lì una riflessione che poi ho inserita nel fometto sulla mia vita sono ancora vivo dove dico commette un errore io ho commesso quell'errore il soldato che parte al fronte ma tuttora accade così quando parte il soldato per la guerra pensa ok torno vivo o morto e invece no nella maggior parte dei casi torna ferito e questo è quello che a un certo punto mi è successo non mi hanno lasciato vivo non mi hanno ammazzato e in questa terra di mezzo difficilissima sei pieno di sfiducia sei sempre guardingo non sei neanche più verso che orizzonte ti stai dirigendo e non capisci neanche perché devi pagare un prezzo così alto cioè per quale ragione e soprattutto addirittura una dinamica ancora più difficile da percepire è quella dell'invidia cioè ma veramente c'è qualcuno che invidia la mia vita di merda cioè veramente cos'è e poi scavi e capisci cosa è cos'è? è un senso di colpa legata magari all'incapacità di prendere posizione di avere palle di essere coraggioso magari tu vedi questo che è una dinamica che per esempio che su di me non è per me così facilmente identificabile ma magari tu vedi questo senti di non averlo e immediatamente hai fastidio senso di colpa è come se io ti ascolto è un invidia comunque in un certo senso solo di realtà qualcos'altro esatto e lo ho capito diciamo negli anni sentendo proprio il fastidio verso persone che è come se si sentissero da me chiamate ad agire e allora invece di agire di dire no 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 ma attenzione quale azione sei tu che stai inventando tutto sei tu non c'entra quello che stai dicendo non vale niente e quindi tutto ciò diciamo sul piano psichico e anche fisico sei sei proprio bloccato nel senso che hai proprio un senso di morte hai un senso di morte in tutto questo periodo mi incuriosisce il tuo rapporto con la scorta nel senso che tu appunto eri molto giovane quando io sospetto che tu provenissi da ambienti di sinistra attiva non so mi dai questa impressione mi sbaglio? come famiglia dici o come sia come famiglia che come persona come famiglia famiglia è strana nel senso mia madre mio padre no mio padre diciamo una formazione cattolica mia madre di origine seferdita della famiglia ligure ok e mia madre di sinistra e mio nonno con cui sono cresciuto cioè il padre di mia madre mazziniano di formazione repubblicana ah ok questa è una quindi un'idea che io mi ero fatto a vita ma è però attenzione da ragazzino certamente io frequentato frequentavo tutti gli ambienti diciamo radicali che potessero darmi qualcosa una biotria diversa rispetto al mondo quindi che ne so frequento i tizi che vendono per stata lotta comunista ah allora t'ho beccato quindi non ero così fuori fuoco non mica solo quelli ok frequento un gruppo di anarchici che faceva un giornale che si chiama Cane Nero ok e frequento un gruppo di bordighisti ok poi frequento a un certo punto tutta una serie di librerie di estrema destra perché avevano i libri di alcuni pensatori che volevo assolutamente studiare Spengler Julius Evola e quindi nella radicalità io cercavo una verità altra ah ok quando questo fino diciamo ai 18 anni ok sai perché ti chiedo questo perché mi chiedo come essere così a contatto con le forze dell'ordine abbia cambiato il tuo rapporto con le forze dell'ordine giusto è vero per la prima volta che sto parlando in questo caso sì ha cambiato tutto nel senso che all'inizio no no io non è che avessi però questo era dovuto all'origine territoriale cioè io facevo molta differenza tra il celerino che pesta per strada e il carabiniere che sul territorio carabiniere onesto sul territorio fa la differenza ma non solo fa la differenza diciamo la battaglia devi immaginare la battaglia altissima lotta la mafia fa la differenza perché aiuta laddove mancano i diritti quindi la persona che deve avere una mano perché non trova ricovero in ospedale in certe realtà è il carabiniere che risolve o la chiesa in una situazione dove per esempio c'è un sono molti licenziamenti per intendere cioè la chiesa e in alcuni casi il maresciallo quando c'è intelligente e generoso che mette su una situazione di solidarietà quindi io queste cose le vedevo pur non essendo cattolico e pur diciamo non avendo un istintuale slancio verso le forze dell'ordine parlo di me adolescente immagino io queste cose le vedevo però e vedevo che avevano ok non so c'era Sassano un uvoletta un ragazzo che viene ammazzato carabiniere giovanissimo e che lo ammazzo non c'entrava niente una vendetta del cano dei casalesi una lunga storia ma quello che lui fa è che mentre di punto la pistola c'era un ragazzino vicino un bimbetto lui lo spinge lontano e si prende tutti i proiettili poi quel bambino è cresciuto è andata a lavorare in Germania quindi queste cose io le sentivo dentro ovviamente mal sopportavo tutta una serie di cose che pure le forze dell'ordine facevano ma la scissione diciamo operatività antimafia o civile delle forze dell'ordine e repressiva politica la dico queste cose ce l'avevo chiaro quando c'è stato il rapporto con loro non con tutti c'è stata armonia chiaramente ok ho avuto anche degli uomini che avevano un'altra posizione chiaramente un sentire politico diverso anche se non abbiamo mai parlato che però emergeva questa cosa emergeva ma poche volte è successo negli anni quasi 18 anni ormai non ti sono non li voglio contare e comunque altra cosa che mi è successa meravigliosa che magari alcuni di loro avevano delle posizioni molto diverse dalle mie ma che a forza poi di discutere di ascoltarmi o di subirmi o di dialogare li ho visti cambiare ok non so se si sono convinti delle mie posizioni ma certamente si sono aperti alle mie posizioni posizioni questo è tutto sulla lettura filosofiche non per forza posizioni di attivismo politico e poi vedi da dentro una serie di cose mi ricordo parlo la mia scorta agli albori io entro in auto e vedo stranamente una pistola non quella di ordinanza tipica che la Marshall non è millimetri barretta vedo una pistola a tamburo e quindi dico maresciano sta pistola a tamburo a lui si gira ma loro non siete comuniste cioè capisci di armi no? ok l'idea era pacifista non capisci niente di armi e questa cosa nel diciamo ha contato anche no? che io fossi esperto di alcune cose immediatamente in cui loro avevano riconoscevano ecco una competenza parlo proprio all'inizio quando io credo fossi insomma uno dei più giovani scortati a parte i familiari dei pentiti o di qualche magistrato sai tu hai comunque un ragazzino e ti entra in scorta a 26 anni cioè più piccolo in alcuni casi dei loro figli non è facilissimo perché mi chiedo sì questa dinamica poi nel tempo le cose appunto ormai sono tanti anni e una dinamica diciamo di di rapporto anche diciamo tosta perché poi la vita tutti i ritmi di una vita cambiano cioè poi non sei diciamo non sei mai solo che è un'altra roba te ne accorgi almeno che non ti chiudi in casa e non rispondi al citofono in quel caso esatto e in bagno anche la cosa che tu capisci per esempio quando io sono in pubblico adesso se andassi in bagno non vado solo e queste cose sono in realtà poi ti entrano dentro non te ne accorgi ma ti entrano dentro e ti cambiano moltissimo ti cambiano ti cambiano e e soprattutto sei in quella dimensione che ti dicevo non vivo non morto e sei poi abituato a un certo punto anzi continuamente sollecitato non abituato perché non ci si abitua sei continuamente sollecitato da commenti che poi sai in fondo sono commenti idiotissimi ma che capisci anche essere spontanei e cioè se avessero voluto ammazzarti ti avrebbero già ammazzato un classico che è una frase che all'inizio mi turbava ma questo veramente crede a sta stronzando perché se fosse così allora Obama la scorta leviamola anche a qualsiasi capo di stato perché tanto se li vogliono a fare fuori a questo punto meglio che è molto comune come pensiero perché è un pensiero apparentemente semplice cioè un sillogismo quindi no se avessero davvero voluto farlo fuori l'avrebbero fatto perché chi è stato scortato come Falcone la scorta non l'ha impedito di ammazzare quindi sembra un pensiero tutto sommato ragionevole la grande cazzata di questo pensiero è che non conosco chi lo pronuncia non conosce la dinamica non degli omicidi delle esecuzioni non conoscono niente di tutto questo e le organizzazioni criminali che hanno usato del tritolo per uccidere dei giudici e dei nemici sono state pochissime e le persone eliminate in questo modo non si contro neanche sull'edita della mano persone come il giudice Saetta oppure Ciaccio Montalto sono stati ammazzati proprio perché non avevano la scorta in molti casi il meccanismo di protezione dissuade dall'operatività completa una volta ricordo che arrivò un anonimo di cui poi si è parlato a processo arrivò un anonimo alle caserme dei Carabinieri dove descriveva in maniera precisissima come le organizzazioni avrebbero voluto fare del male a me in quel caso era anche segnalato Raffaele Cantone mi sembra anche che a Fiora non ricordo e in questa riunione mi colpì riportata da questa persona mi colpì che sembrava una sorta di diario di una riunione di condominio sai che si fa il verbale e ci siamo incontrati in questo punto scommesse legale abbiamo chiuso la cinesca abbiamo discusso e tutti che dibattono sulla mia situazione secondo questa fonte tutti dicevano eh però dobbiamo colpire pure i Carabinieri era un problema e alla fine si fa una votazione dove tutti votano per evitare di farlo ma altra cosa che mi ha molto suggestionato mi ricordo questo personaggio dice se però si decide di farlo devo esserci ok cioè se l'organizzazione decide che vale la pena colpirlo noi non dobbiamo essere esclusi perché andremo a non perderci andremo a perderci un il valore simbolico un valio certo invece conviene non farlo perché bisogna toccare i Carabinieri addirittura c'è uno che dice ma questi mandano i carri armati a Casale se lo facciamo e poi mi sono sempre interrogato su chi avesse mandato quest'anonimo che poi fu mandato all'Espresso la DNA la direzione nazionale antimafia era tutto preciso veniva detto dove erano le armi chi avrebbe dovuto fare la cosa è rimasta lì poi questa cosa l'indagine è stata superficiale è stato solo un atto poi portato durante il processo verso Bidognetti e Sant'Anastaso e probabilmente all'epoca un tenente colonnello Ciro a cui ho chiesi una lettura tramite informatori lui arriva a dire guarda credo che chi ha scritto questa lettera era uno dei possibili incaricati di farti del male non voleva l'ergastolo perché io mi devo caricare questa persona mi devo caricare l'ergastolo per fare del male a questo adesso faccio uscire tutto e quindi lui mi dice guarda questo qua è tipico di chi non vuole non che gli era stato dato l'ordine ma di chi sapeva che avrebbe dovuto subbarcarsi lui poi il costo se ci fosse deciso quindi io mi ricordo che lessi questa lettera che mi fu consegnata in realtà direttamente credo non so se dalla procura o dai carabinieri quindi io non l'ho ricevuta ai miei indirizzi e e fa strano sentire parlare poi della tua vita della tua morte quindi quando poi a un certo punto è arrivato è arrivato un ministro degli interni a dire bisogna togliergli la scorta come se fosse facciamo no non voglio umiliarlo se c'ha il nome scritto sulla maglietta è il momento di tirarlo fuori però bene quella roba lì è stata veramente incredibile a pensarci perché è lo stesso atteggiamento che può essere descritto su un malato immagina che facciamo stare su un palco una persona e chiediamo ma secondo voi questa persona è malata o no allora dice no ma a me non sei ma facci della salute no sta malissimo diciamo lo curiamo o no ma no non curiamolo invito lo curiamo no non lo curiamo vabbè niente è la stessa cosa cioè tu non sei nulla non hai studiato le carte non hai studiato quello che porta il cursus che porta la persona a proteggere e soprattutto siccome non vedo l'ora di tornare alla vita normale non vedo l'ora se proprio tu la vuoi togliere perché la ritieni ormai superata se ritieni i problemi che hanno portato alla protezione superati ecco e non lo puoi fare in pubblico perché mi stai mettendo un bersaglio addosso viene convocato insieme si trova una strategia figurati in genere viene prima abbassato il livello poi non viene detto la protezione pubblica lentamente tu inizi a muoverti con meno persone puoi muoverti con una sola persona e poi dopo un po' fine tutto in silenzio si fa così per tutti che tu sia ministro che tu sia ex PM si fa così per tutti ma non esiste proprio poter pubblicamente dire ti tolgo la scorta come se la scorta fosse un merito certo c'è sempre quel discorso lì la scorta non è un merito è pieno di persone diciamo orrende compromesse dei chiaveci terribili scortati quindi non c'entra proprio niente non è che sei bravo valido e figo perché sei scortato per niente per niente oltre a fatto sono scortati spesso anche i peggiori criminali che hanno collaborato con lo Stato i peggiori criminali che hanno collaborato lo Stato spessissimo ministri corrottissimi sono scortati ma siete sicuro che se poi questo ministro fantomatico di cui ci stiamo inventando l'esistenza ex ministro dicesse alla gente togliamo adesso è ancora ministro ma è un'altra roba togliamo la scorta è tutto inventato è tutta una roba di fantasia togliamo la scorta anche agli ex ai pentiti ti assicuro che la gente gli direbbe sì certo perché è proprio una questione di spesa pubblica sì ma poi in realtà la quantità diciamo di persone che magari sono dentro questo sistema di protezione infinito quindi sono sicuro che non è stato fatto nel mio caso perché altrimenti avrebbero dovuto toccare una quantità di personaggi che se io te le ho in casa tu non ci chiederesti ma veramente quella persona è protetta dallo Stato perché non hanno toccato la mia mi sono fatto questa idea ma ero pronto e sono pronto nel senso in ogni momento che non sono sicuro questo governo e questo paese in questo momento è spaventoso nel senso che stiamo andando verso una dinamica simile a quella di Orban in Ungheria e quindi non è che mi sento sereno con i vertici che hanno deciso per cui sono pronto detto ciò la follia è quella dinamica del resto indossare la maglietta della polizia fu un atto pericolosissimo perché anche qui apparentemente vedi quanto è importante può darsi tempo e approfondire e ragionare apparentemente può sembrare un atto di solidarietà che male c'è se il ministro degli interni indossi la maglietta della polizia nei comizi e non è così la polizia carabinieri finanza in una democrazia sono forze terze garanzia della democrazia che non significa che non abbiano idee politiche che non siano orientate politicamente certamente ma non hanno nulla a che fare con il potere politico o non dovrebbero avere nulla a che fare con il potere politico questo significa se indossi la maglietta della polizia che se io ho un problema con Salvini ho un problema con la polizia quello è il messaggio che passa certamente certamente ecco perché non esiste se non nelle dittature che i capi i ministri indossino la divisa certo perché a quel punto due poteri iniziano a coincidere un potere che deve essere di controllo sulla democrazia anche se è influenzato la democrazia poi il governo che decide chi comanda i vertici quindi capisco che c'è una contraddizione ma in realtà è una posizione terza e questa cosa Salvini all'inizio resistente molto mi attaccava anche per questo perché io non posso indossare il cappellino è un atto di solidità lo fanno anche i presidenti americani no cioè quando si vede il ministro o il presidente che indossa la divisa o è la festa di quell'arma certo o va a trovare le truppe all'estero i militari e quindi quel giorno ti sei sondato ci sta è un omaggio che stai facendo ma se tu mentre fai i comizi e fai la tua attività politica indossi le insegne di una forza e l'ordine tu stai compromettendo la democrazia mi stai dicendo che quindi la tua attività politica è affiancata all'attività di polizia ma bisognava spiegargli questa roba da zero cioè la fatica che io faccio con Salvini anzi mo glielo dico dico Salvini studia ma diteglio diteglio nessuno tutti gli uomini della tua scorta la pensano così o qualcuno ha fatto no dai grande Salvini no non credo quanto meno non credo non è successo non credo magari è in segreto in segreto dici che ero secondo me un grande no non credo non credo però infatti non credo però sì nel senso che poi tu dici ma non lo so ogni volta gli vorrei dire ma tu studia non può ma perché in realtà al netto di sparare su questo ministro che appunto sarebbe fantastico se esistesse ma perché manca proprio una divulgazione dell'antimismo sono pochissime le persone che fanno divulgazione antimafia in questo paese cioè tu sei uno di quelli però è poco nel senso ma in realtà diversi c'è tantissimi che si occupano di questo tema non è un tema facile non è un tema facile magari è quello proprio no è molto facile farlo in maniera superficiale cioè racconti l'omicidio i mafiosi cattivi sì è molto facile insomma farla male oppure tu hai tutto il mondo dei magistrati quindi sono più adetti lavori che tu che rapporti sei con Nicola Gratteri ok non so l'applauso cosa significa era lui era in classe perché simpatizzante ok no sì ci siamo frequentati all'inizio della sua carriera ok poi non molte cose come dire non ci condividiamo su molte cose il tema diciamo più dirimente è quello sulla legalizzazione lui ha una visione incredibilmente reazionaria su questo che è strano no no non è strano non è strano non è strano per quella tipologia di magistrato assolutamente però cioè ovviamente io condivido la tua visione sulla legalizzazione delle sostanze per togliere potere alle mafie cioè nella mia testa è molto logica capisco i problemi sociali e quindi come affrontare una questione di questo tipo è problematico a livello politico a livello sociale su tanti aspetti però ne capisco poi l'implicazione perlomeno nelle mie ipotesi mi sembra strano che un Gratteri che conosce la materia probabilmente un po' meglio di me non arrivi alle stesse conclusioni no no lui è una visione securitaria in molti casi anche reazionaria diciamo della politica e della società quindi anche sul tema migrazione non condivido nulla sul tema della leggerazione non condivido nulla come la vede lui abbiamo fatto un percorso anche col suo primo libro che portai io in Mondadori quindi sicuramente c'è stato un continuo confronto no non devi pensare che è molto diffusa la questione invece proibizionista in chi ha questa visione cioè no che le manette gli arresti la proibizione sono la strada maestra per fermare il grande male criminale è una purtroppo è una visione diciamo in realtà molto diffusa in un pezzo di mondo magistratura giornalismo che in genere si definisce né di destra né di sinistra no che è una definizione tipica dei conservatori dei conservatori diciamo però diciamo la legalizzazione per me è una battaglia prioritaria proprio prioritaria e tutti i cascami di commenti ma no poi ci sarebbe il contrabbando o addirittura chi fa questo tipo di ragionamenti arriva a dire ma per io fosse per me proibirei anche l'alcol proibirei anche le sigarette arrivando a fare un errore logico importantissimo cioè lui disprezza l'alcol lui educherebbe l'interlocutore o i figli a non berlo per cui va vietato no esattamente il contrario esattamente il contrario è proprio chi non aborterebbe mai per esempio che deve sostenere il dito all'aborto è proprio chi non gli frega nulla per esempio dell'ashish o della marihuana che deve sostenere la legalizzazione perché sono tutti spazi che se tieni nella clandestinità stai dando alla criminalità organizzata non solo li stai anche diffondendo tutto ciò che è clandestino diventa forza economica criminale questo è teorizzato letteralmente teorizzato non è una mia iperbole da Pablo Escobar il quale dichiara i suoi intercettato anni 80 tutto ciò che è pericoloso e illegale ti porta danaro tutto ciò che invece è legale e sicuro non ci fai una lira non disse una lira ma c'erano i soldi con i dollari quello che voglio dire è che questo è proprio l'abc del mondo criminale certo se tu lasci la possibilità di accesso criminale a questi mondi e qua arriva sempre l'obiezione allora legalizziamo l'omicidio allora no c'è sempre se legalizziamo l'omicidio si smetterà a me continua me oppure legalizziamo la coca io stesso immagino un mondo non lo vedrò mai ma dove anche le droghe pesanti saranno legalizzate perché ci sarà un controllo ma chissà quanto talmente importante per cui c'è una diffusa percezione del danno e in questo momento sarebbe un errore madornale perché perché c'è una tale diffusione di disagio basta vedere il fentanyl negli Stati Uniti la diffusione degli antidolorifici come antidepressivi che il rischio di diffondere dipendenze è irrevadissimo ma laddove io invece posso controllando gestire pensa alla dipendenza all'alcol e la riflessione che però è ancora un problema enorme gigantesco il lavoro ma è in Sardegna è una delle terre con più elevato dipendenza è verissimo è vero sì e credo che sia tra l'altro la terra non so adesso se è ancora oggi così dove si si consuma più birra più della bavina sì sì dicono mentre hanno degli alcolici cioè peraltro una roba terribile però è interessante perché cosa ti dicono qual è l'obiezione sì però aspetta se io bevo una birra è tutto ok certo se ne bevo 20 è il problema mentre la canna anche se me ne faccio una è già un problema falso falso certo il piano chimico è falso certo e in realtà abbiamo prove scientifiche che consumare amarivano asci ce ne faccia bene sia chiaro ma non dà gli stessi danni di chi consuma abitualmente alcol e controllare un mercato significa innanzitutto renderlo meno tossico e dannoso proprio come sostanza sì sì secondo non far arricchire le organizzazioni criminali e terzo avere la possibilità di comunicare alla comunità sui danni di quel prodotto come si è fatto col tabacco se ci fosse davvero un politico che cercasse di perseguire questa strada le organizzazioni cercherebbero di mettersi in mezzo assolutamente l'hanno sempre fatto in ogni angolo del mondo hanno sempre finanziato esattamente come le compagnie del tabacco diciamo hanno sempre finanziato i proibizionisti e nel caso diciamo del tabacco c'è una delle storie tu probabilmente sei troppo guaglione quindi non lo ricorderai noi abbiamo tipo tre anni di differenza sì è una roba terribile la nostra staff vero sì te li porti troppo bene grazie o io troppo male no no non lo so però c'è questa roba ti ricorderai il ti ricorderai il contrabbando di sigarette sì beh io vengo da una terra dove il contrabbando di sigarette veniva definito la Fiat del Mezzogiorno no e Santa Lucia Napoli bene sai chi faceva il contrabbando di sigarette il contrabbando di sigarette lo facevano le grandi compagnie che producevano sigarette nel mondo le grandi multinazionali del tabacco e come facevano? semplice da qui tenato ci ha guadagnato la crematità organizzata campana tantissimo quella pugliese funzionava così sapevano che un grande carico finiva nelle mani della camorra e ti utilizzo un esempio realmente accaduto Michele Zazza che peraltro morì giovanissimo e viveva a Beverly Hills napoletano e arrivò a sedere nel consiglio di amministrazione di un'importantissima società del tabacco in Svizzera Michele Zazza doveva importare sigarette di contrabbando e venderle in tutta Italia allora cosa faceva una multinazionale famosissima di tabacco? sapendolo prendeva il tabacco di minor qualità lo faceva tostare lo faceva produrre e spediva tutto in Albania Alessandro Lo Grande mio amico scomparso qualche anno fa purtroppo fece uno studio in un libro che si chiama Le Malevite dove risultava che se davvero fosse stato importato quella quantità di sigarette per il mercato albanese avrebbero dovuto fumare tre sigarette al secondo tutti gli albanesi compresi i bambini e cosa che è successa? forse sì comunque quindi cosa succedeva? spedivano queste sigarette in Albania non era per il consumo interno e dall'Albania importavano illegalmente le sigarette in Italia molte persone credono o hanno creduto o credevano che quelle sigarette fossero false no sono identiche a quelle che compravi al tabacchino con il simbolo dello stato sopra erano pagate le accise monopolio di stato semplicemente costavano meno perché entravano clandestinamente erano prodotte dalla stessa multinazionale che sapendo di dover ammortizzare tutta una serie di costi ci metteva un tabacco pessimo e ecco perché la sigaretta di contrabbando faceva più schifo perché era proprio una strategia della multinazionale e ecco perché in alcuni casi invece c'è un film bellissimo con Sofia Loren che racconto di una famosa contrabbandiera lei dice ai suoi clienti io vi metto da parte i pacchetti le stecche di sigarette migliori perché il contrabbandiere parlo proprio del dettagliante spesso sapeva quando arrivava un carico che non era schifo faceva schifo era un carico in realtà magari prima rivolto al commercio legale che poi invece viene dirottato e quindi quelle sigarette diventavano un po' di contrabbando vedi quindi alla fine il sistema criminale che distribuiva sigarette di contrabbando con cui sono stati fatti miliardi ma miliardi era un sistema che aveva al suo vertice le multinazionali stesse certo e questo per dire che in realtà poi quando vai a scavare dentro le dinamiche economiche criminali ci trovi lo spirito del capitalismo stesso perciò non ne uscirò mai da questi studi hai chiamato l'applauso ti ho chiamato l'applauso perché secondo me ci stava è perché ti faccio due domande flash per chiudere e poi andiamo perché vedo che inizia a toccarti la faccia sei stanchissimo no 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 scherzo no sono due cose al volo uno la questione della moto cioè so che tu volevi io sono un motociclista ah vero sì ho saputo che ho letto dove l'avevo letto nella tua graphic novel che tu volevi la moto però non l'avevi l'avevi comprata ma non presa poi ho visto la tua foto sulla moto quindi moce l'hai no non ce l'ho non è mia quella ah come no non è mia ah no vabbè sono stato ingannato da Roberto Saviano no quella è una moto in cui ho fatto dei giri lungo la costa romana ah quindi ci sei andare sì sì dai allora a posto eh ma il problema vero della moto è la scorta che ti segue no perché stavo per invitarti in Sardegna in moto però in effetti mi rendo conto che noi due in moto con la scorta dietro un po' strano e che tecnicamente diciamo non si può fare ma tempo fa avevo in mente ho detto ah ma adesso ci provo e vado scappo dalla scorta tanto c'è il casco integrale chi mi becca poi ho pensato posto il blocco immagino un poliziotto posto il blocco io mi fermo documenti non mi alzo la visiera resto col casco quello vedi documenti e due sono le cose o penso che sono documenti rubati o se mecca che sono io ah non lo posso fare perché io non posso evadere dalla mia scorta non si può non puoi evadere dalla scorta scusa proprio questa espressione tra l'altro ok e due immagino già la comunicazione dei giornali feccia besta saliano scappa no peggio ci ha raccontato che è stato 17 anni sotto la scorta sotto scorta e invece gira per i cazzi suoi esatto per Roma in effetti sì in moto ok ma lo farò nel senso che prima o poi troverò la forza di farlo non so dove come ma sì mi prenderò prima o poi una Ducati mi piace tu quale è una moto che ti piace? un Harley ah tu sei proprio Harleyista eh sì diversi miei uomini sono Harleyisti è una roba di polizia cioè una roba nel senso tanti amici Harleyisti sbirri mi so che no no sì ma io prima o poi farò riuscire non troverò il coraggio e farò questa roba e così insomma poi mi farò prendere in giro dal dal posto di blocco però è un non sai come sia un pensiero costante sì l'idea di poter sì autonomizzarsi in questo modo di poter riprendersi in qualche modo il tempo della propria della propria vita che poi la gestione del proprio corpo quello è diciamo il mito del centauro è quello nel senso poter perché è legato al concetto di libertà anche libertà è libertà di movimento per decidere all'ultimo di cambiare tutto o andare dove vuoi non doverlo sempre decidere valutare mappare la sicurezza insomma è quello a un certo punto tu hai proprio le coordinate della tua vita cambiate non so se puoi rovinarti la fantasia dicendoti che alla fine i giri in moto in gruppo sono sempre facciamo un pezzettino poi andiamo a mangiare in un ristorante siamo stanchissimi e ce la torniamo a casa però magari è meglio comunque tenere la fantasia ti faccio l'ultimissima domanda e poi andiamo se dovessi rinascere reincarnarti sei sempre tu sei sempre Roberto ma nella stessa situazione stessa famiglia stesso luogo tutto uguale ma non potessi fare quello che hai fatto il tuo percorso che cosa faresti? l'etologo la verità davvero? perché? beh perché una diciamo passione per i gorilla silverback la verità succede succede questo che tu percorri tutta una vita tutta una vita un pezzo importante di vita e poi ti accorgi che in fondo tua madre aveva ragione mia madre è una naturalista è stata un po' di mineralogia tutta la vita adesso è in pensione in fondo voleva che io facessi un percorso scientifico sognava che diventassi un chimico poi non avevo talento per la chimica da bambino ero un bambino molto sveglio ho iniziato a giocare a scacchi molto piccolo suonare il pianoforte da piccolo wow però sai sono quelle dinamiche che poi vengono non so come dire se non vinci non vieni percepito come se non vinci il campionato se non vinci un premio in quel senso in fondo queste 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 sorte di doti che hai da quando sei molto piccolo ti lasciano un grande senso di frustrazione cioè per intenderci vengono riconosciuti sempre il bambino prodigio che vincono la coppa che arrivano per prima tutti gli altri venti che arrivano non primi e che cosa sono in realtà hanno anche loro un talento un impegno ma per il mio caso io mi ricordo un grande senso di frustrazione cioè di essere riconosciuto come un bambino che ce leva però non vinceva tutto questo per dire che a un certo punto io mia madre voleva che mi orientassi verso lo studio della natura quindi diventassi un naturalista come in fondo era stata lei e invece scelgo filosofia nel senso che per me diventa una passione talmente grande la possibilità di studiare il pensiero puro di poter studiare la dottrina la dottrina politica la dottrina morale la storia della filosofia che mi allontano dalla scelta naturalista che volevo io facessi mi scrivo a filosofia e poi insomma lì è il percorso faccio anche un percorso storico che mi porterà poi a studiare i temi che ho studiato ma a un certo punto c'è una passione verso la natura non è mai scomparsa e soprattutto per i primati due in special modo che sono i gorilla silverback io mi sento un gorilla chiaramente nelle mie fantasie nelle tue fantasie tu ti senti un gorilla? sì io non voglio essere un sapio un uomo sapiens cioè mi dispiace essere un uomo sapiens mi piacerebbe essere uno di questi gorilla i gorilla silverback sono gorilla con la schiena argentata sono bellissimi hanno un fortissimo senso della comunità e hanno anche una certa malinconia nell'aspetto e e poi mi piacciono molto i bonobo che sono degli shimpa che sostanzialmente tramite la loro potenza sessuale insomma fanno un amore di 20 ore al giorno e annullano ogni tipo di conflitto e sono i due mondi che avrei voluto studiare i due mondi in cui mi riconosco nel senso aspiro a riconoscermi perché sono oltre secondo me sono proprio un orizzonte di vita che un sapiens non riuscirà mai a realizzare e infatti io per chi mi segue sui social sa che ogni tanto ripeto sempre un aforismo meraviglioso di Mark Twain il quale dice se mi comporto davvero bene spero di potermi meritare il paradiso dei cani perché se io vado al paradiso dei cani ok ma l'idea di andare all'altra parte e trovare gli uomini ancora una volta mamma ok meglio il bonobo grazie va bene Roberto Saviano grazie 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 che bello grazie grazie da firmare ancora un applauso grazie grazie a tutte grazie a tutti la dovevo fare subito la domanda sui bonobo è andata così raga non avevo idea che saremmo finiti sui silverback avessi saputo avrei ricominciato avrei iniziato dalla fine spero vi siate divertiti spero sia stato interessante a un certo punto vedevo segnaci sarei rimasto qui veramente un'altra oretta perché avevo un sacco di domande ringrazio Gratteri che mi ha fatto l'applauso a un certo punto quando ho chiesto di lui dal pubblico ringrazio gli sponsor Noof UPN e Tridom che stanno finanziando tutta questa roba che sto facendo ringrazio soprattutto voi per essere qui niente sono ancora emozionatissimo grazie ancora buonanotte grazie a tutti Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.